Ok Ma TikTok non l'ha aperto Mamma mia L'avevo aperto TikTok Allora io Sono un pollo Sono un pollo Sono un pollo Pollo un pollo Proprio un gran pollo Sono un super pollo Sì L'avevo chiuso prima Perché avevo chiuso OBS E vabbè Chi mi spamma gli inviti Non gioca Chi mi spamma gli inviti A inizio live Senza che io abbia neppure fatto una partita Non gioca Quindi ora controllerò chi è stato E non giocherò con la persona Ora controllo Ora controllo Prima però faccio partire la live Chi mi ha spammato l'invito Non gioca raga Ok ok Ci siamo ci siamo Perfetto Ora vediamo chi è Ora vediamo chi è il Chi è colui che non giocherà Ora vediamo Ora vediamo insieme Allora raga Promesso Chi ha invitato non gioca Sono le regole del canale Sono le regole del canale Cambiamo scena E intanto Intanto Fortnite Crew Ti risenti Questo lo mettiamo Vai subito Mamma mia Siamo subito Che è che è che mi ha invitato Che è che vediamo Non mi fa vedere gli inviti Guarda Non mi fa Non mi fa Non mi fa Guarda Guarda Non me li fa vedere Guarda Che salvata Che salvata Mamma mia Assurdo Intanto Bella schifura Bruni Ah Bruni Si è tanato A post Non sono manco Ah ok Non era Bruni Ok ok Vediamo se funzionano Sti alert Faccio partire la live Pure dall'altra parte Quasi quasi Vorrei farla partire Anche di là Ma non so se Com'è Se facciate qua Ah questo era Degli short Short Show short Marinowski Vedi che è tornato Che è Che è stato Che è stato È per il buon Leo Let's go Let's go Si è così Leo Grazie mille per l'abbonamento Col Prime E vi ritrovato Leo Grazie mille Leo Grazie mille Let's go Oh facciamo partire La registrazione Grazie mille Leo Mamma mia Leo arriva subito Bella schifura Buona Harry Raga vi ho messo Degli alert Per chi mette i follow Su TikTok Dovrebbe partire In alert Raga Dovrebbe partire In alert Credo Avviso Qua dice che parte Su TikTok Come potibile Non so come si potibile Come potibile Non so come si potibile Ma si sente Potibile Non so come si potibile Ma si sente su TikTok Alessa E su Twitch Alessa Gli alert Gli alert dei follow Si sentono Ragazzi Si sentono Il come potibile Ok No l'importante È che si sente Fa ride Fa ride Come Cioè Secondo me Non ne avrò mai abbastanza Mentre erano tipo 10 minuti Basta Grazie per i follow Manu Adda Giuse Grazie per i follow Si sentono E' simpatico Era Ma a me Mi faceva ride Quindi ho detto Buttiamolo lì Buttiamolo là Come potibile Grazie Gesù È dato Grazie mille a Gigione Per l'abbonamento col Prime Grazie Gianlu Grazie Emanuele Come potibile È potibile Non riesco a capire Come potibile Io l'ho messo su TikTok Il come potibile Io l'ho messo su TikTok Grazie Gigio Grazie per i tuoi due mesi Come potibile Non so come si potibile Non so come si potibile Bellissimo Bellissimo È potibile Mohamed Ferrari Ciccio Grazie per i follow È potibile È potibile È potibile Grazie Grazie ragazzi Bellissimo Mi piace una cifra Staller Oggi arriviamo a 200.000 follower Grazie a questo alert Io ne sono sicuro È troppo bello 200.000 follower Grazie per i tre Grazie mille Regà Let's go Grazie mille ancora Gigione A Leo Per gli abbonamenti Abbonamenti Come potibile Non so come si potibile Grazie Giulio Oh così mi accorgo Di chi mette i follow È bello Mi accorgo di chi mette i follow Così Sono troppo casato C'è uno lì Regà Occhio Mi accorgo di chi mette i follow Ci sta pure Tipo Per ogni dieci rose Ci sta un altro alert Non so come si potibile Non so come si potibile Grazie Canvero Grazie Andrew Let's go Sì è così Sì è così Sì è così E così si fa E così Sì Non so come si potibile Com'è potibile Com'è potibile Com'è potibile Com'è potibile Grazie mille a Michelinio a Toba Per i follow Oh è bello Siamo qui Mettiamo tutte canzoncine Tarararira Ho 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 Metto pure la canzone Oggi facciamo discoteca La discoteca oggi Vai vai Come potibile Non so come si potibile Come potibile Non so come si potibile Oh Let's go Scamese Sì è così E va Tenè lobby Tutto uno Non è lobby Tu Te ne vai lobby Te ne vai lobby Te ne vai lobby Baby Alice Sorriso con la linguaccia Grazie mille per i follow Noi siamo pronti Siamo qui Per vincere tutti i game Perché noi siamo dei veri champion Siamo dei veri campioni Qui su Fortnite Grazie mille per i follow Ragazzuole Eccoci qui Come sta andando ragazzi Oggi è uscito un nuovo video Su Youtube Stasera uscirà un nuovo video Un nuovo episodio Della serie di Spider-Man Marvel's Spider-Man 2 Non so come sia fottibile Neppure io Gre Agostino Grazie per i follow E Lesgoski Ragazzi Sta con Con dieci Diamanti Dieci rose Con dieci rose C'è Lesgoski Dieci rose Uguale Lesgoski Dieci rose Lesgoski C'è proprio l'allert Poi ve lo faccio potente Doppio Lesgoski Doppio Lesgoski Assolutamente 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 doppio Lesgoski Non ci facciamo mancare Nulla Eccolo Questo è per voi Vieni qua Eh niente Affacciati Affacciati alla porta Io sono pronto qua Affacciati alla porta Io sono pronto qua Ciao Grazie mille per la rosa Ma quasi quasi le rose Ve le metto tipo per ogni singolo Alert Che c'è frega Un attimo Ma sì Finché non Sì sì dai Una rosa uguale Un alert Dai Alla follower Ce l'abbiamo Taratatatà Come è potibile Che c'è Come è potibile Come è potibile Non so come si è potibile Dai Lesgoski Come è potibile Non so come si è potibile Lesgoski Lesgoski Monete minime Facciamo una Sì lo so Sta arrivando la tempesta Regà purtroppo Applica vai 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 così vai Ogni rosa Un Lesgoski Poi vediamo come va Se è troppo Bilanciamo Dai Dai vediamo Vediamo Ogni rosa Un Lesgoski Ogni rosa Un Lesgoski Ciao Crisi Buonasera Buonasera Crisi Tutto bene Jaco Passate insieme In famiglia Let's go Let's go Sì è così Benvenuti sul canale Ci penso io un attimo Eri te Bruni No ciao Ciao Grazie mille per la rosa Come potibile Non so come sia potibile Grazie mille bro Stefano Mattia Daniele Let's go Sì è così Let's go Ski let's go Let's go Ski let's go Non so come sia potibile 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 Ci girerà la testa Ci girerà la testa E ma fare gli auguri prima porta sfortuna Terni Magari se domani passi in live Grazie mille Tiziano Grazie mille Let's go Ski no gamer No gamer No gamer Ma tu giochi a Warzone Tante volte Torni Ti ho chiedo Hai visto che segui Jack Tante volte giochi a Warzone Io non lo so O giochi solo a Fortnite Let's go Ski let's go Sì è così Ehi Lorenzo Grazie per le 63 rose Asta Ossia broni Grazie per le 15 Ah ma è potibile È potibile Non so come sia potibile Alex Simo Il lollone Grazie mille per i follow su Twitch Benvenuti a tutti ragazzuoli Ciao bello frero Eccoci qua ragazzi Eccoci qua Siamo ancora in game Ormai non troppo Sono davvero scarso su Warzone Che lo dici Ho visto che inizia la nuova season Non sapevo saccotarmi a Jack Quando inizia la nuova season Dirgli Contami caro Jack Contami Contami carissimo Jack Quello Fk Fk E gli frega quello Stava Fk Gli frega niente Allora Ah Fk rega Là guarda Svuti 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 Che dici Svuti Mi sono mancato sti giorni Che ne abbiamo streamato Oh 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 Mi sono mancato sti giorni Ragazzuoli Come è potibile Non so nemmeno io Come sia potibile Baby Sono una persona normale Tiziano Grazie per i follow ragazzuoli Grazie per i follow Sento pochi Le sgoschi Sento pochi le sgoschi Comunque Sento pochissimi le sgoschi Perché non porti Lo porto Lo porterò Tra qualche giorno Lo portiamo Così lo portiamo pure su Su youtube Sei fortissimo Ma Jack è forte pure su Su fortinet In realtà È forte anche su fortinet Jack Non solo su orton Anche su fortinet Sì è così Eeeh Jaco Calma Calma Jaco Calma Siamo calmi Siamo calmi Siamo Siamo calmissimi Por favor Calmi Calmi Subito i clan Ma Calmi Ancora avevamo iniziato Subito i clan Ciao fratma 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 Già lo sai Già lo sai Tu Già lo sai Lo lo saprai O già lo sai Grazie per i follow Grazie fratma Misa Grazie per i follow Eccoci qui Eccoci qua Siamo pronti Sea of Thieves Dobbiamo portare tutto Lo fare le live pure serali Vorrei fare Ale Lo sai il problema qual è Che non posso urlare La sera Non so come fare Ale Non ho la stanza insonorizzata Come molti altri Ok Non vivo da solo Non so come fare le live serali Regà Cioè potrei giocare Ma non mi Non mi viedreste Alla stessa maniera Nel senso che Sarei molto più pacato Cioè magari quando Oh Eccolo Oh Ed è nato Eh non tutte le sere Broni Non tutte le sere Non tutte le sere Magari potrei portare Bro Stars Nel chilling La sera Che sto lì Tutto concentrato Tipo così potrei fare A parte che devo andare Dall'Apple Samuele Grazie mille per i follow Dalla Grazie mille per i follow A parte che Spammi Buonasera 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 Che è questa è la Cosa di Georgia Della Queen Vero Eh si si è proprio Della Queen E Che vi stavo a dire Devo portare il cellulare Dall'Apple Per farmi cambiare La batteria Così possiamo fare Live belle lunghe Di Bro Stars All'inizio faremo Tipo live De un'oretta Regà Perché ho visto Che dopo un'ora La parteria Se ne parte Cioè si scarica Quindi magari faremo Una prova del genere E poi se vedo Che la cosa ingrana Cioè se vedo Che vi piace Eccetera Vado a cambiare Subito la batteria All'Apple Voi direte Perché non ce l'hai prima Perché mi sa che Se lo tengono Metà giornata Al cellulare Devo andare a Roma Est No a Roma Est Non ci sta più Dove devo andare Boh non lo so Devo andare da qualche parte Non puoi tenerlo attaccato No perché serve Praticamente Serve Tenerlo attaccato Al coso Per streamarvelo Perché faccio via hardware Non faccio via software Di conseguenza A meno che Aspetta Come ragionare C'è un misi puttibile A meno che Non trovo un riduttore Qualcosa C'è un riduttore Raga C'è un capo acquisizione C'è un misi puttibile C'è un riduttore Tipo per attaccarci L'uno e l'altro Grande Yoel It's good Ehi Marshal Marshal E forse è una cosa Un riduttore Un sdoppiatore C'è potrebbe sta Come è puttibile Non so come si è puttibile Grazie Salvo Leskowski Ciao Jake Antonio Alessio Grazie per i follow Mamma mia Abbiamo messo gli alert Su TikTok Sta esplodendo tutto Come è puttibile Non so come si è puttibile Facciamo delle bet E c'è sta Alessandro Che può fare le bet Mi scade oggi Il suo abbonamento regalo Ah Della Queen Come è puttibile Non so come Come è puttibile Cavolo A Queen Gli devo chiedere di giocare un giorno Se vuole fare zero costruzioni Let's go Sì Perché lei gioca sempre Come Martì Con le Con le build Vorrei chiedere di giocare loro Ma giocano sempre che build Regà Io non so Buono A giocare con i build Non so proprio capace Come è puttibile Come è puttibile Non so come si è puttibile Vamos Abbonamento devi scrivere abbonati Caro Iaco Intanto Giulio Forza Napoli Tommaso Bass Forza Ponte Vecchio Grazie mille per i follow Leo Grazie mille per i follow Su 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 Twitch Grazie mille anche a Nike Per i follow Su TikTok Bella marca la Nike Regà Bella marca Però Non so perché C'è stato un momento In mia vita Che preferisco Adidas Però la Nike Mi piacciono molto le Jordan Bella le Jordan C'è un paio le Jordan Però Mi si stanno a spappolare Che è un problema Mi si stanno a spappolare No 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 È riscaldamento Riscaldamento Caro Gaz Riscaldamonte Che riscaldamonte Riscaldamento Ciao Joelle Let's go Giuseppe Grazie mille per il follow Per la rosa Cree Grazie mille per il follow Vai costi follow Vai Let's go Dobbiamo arrivare a 200.000 Siamo fermati All'improvviso Com'è potibile Non so come si è potibile Oggi Regà Ho difeso Il Marzone Oggi In un post Di Nasce Cresce Spawna Sono arrivato Nel soccorso Del Marzone Ho dovuto Difendere il Marzone Per forza Oggi Posso dire Di Di essere stato utile Alla scena di Twitch Ancora di più Ancora di più Che è normale L'ho difeso tantissimo Ho difeso proprio tantissimo Il grande Marzone Difeso oggi Eh perché È una palesi facciale Che ne so Allora Fede intanto mi chiede Kratos è uscito Non ancora Ma uscirà durante L'arco della season Tu mi direi perché Perché la season Degli dèi Kratos è uno Degli dèi Figurate se non esce Sta season È impossibile Uscirà sicuramente È il lobby Forest Ah ma non è Forest Quello là Che faceva la trasmissione Mai dire Già la Pascio Non è quello eh Mago Forest No non credo No non credo Non credo fosse lui Immaginatevi una Gioca a Fortnite Io come lo immagino A gioca a Fortnite Però me lo immagino Che finisce sempre In lobby E sbrocca Non so perché Immagino sempre In lobby Tutto bene Svudi Tutto bene Eh perché Se stava alla metà Che c'è sta gente Che insulta Gratuitamente Eccetera E diciamo Quello che è successo È stato ripreso Da Nasce Cresce Spawna Che ci ha fatto Un post su Instagram E sono dovuto Andare lì a commentare Sono dovuto Andare lì a commentare Perché È così È così che si fa Bisogna far valere La ragione Bisogna Bisogna far valere Le proprie ragioni Non sono Mariano Ma ciao Comi Ho sentito Il cellulare mio Tipo Inizio come si è fottibile Puto e scammati Vabbonati Secondo link Ci clicchi sopra Ti fa abbonare gratuitamente Con la opzione Senza costi Aggiuntivi Ma chi è dietro La mia porta Valedizione Sento qualcuno Dietro la mia porta Inizio come si è fottibile Ma mi stanno a bussare il cane Mamma mia Poi ho visto La clip del cane Mi sono tagliato Che è capitata A te Ma chi è Ah ma c'è sta Helio sta qua dentro Ma stai qua te Stai qua con me Ma è fottibile Così è Ma stava con me Stava Il cagnolotto Ogni tanto Quando faccio i live A una certa Regà Se è stanca E se ne va Dice questo Parla troppo Secondo me Dice questo Parla troppo Grazie mille A colla A pomodoro A tommaso Grazie mille Per i follow Regà Piano piano Il come potibile Sta per scomparire Adesso che c'è Penso Sapete gli alert Di tiktok Quando li dobbiamo Un pochino togliere Li dobbiamo Un pochino togliere Quando praticamente Giochiamo con qualcuno Perché sennò Non escono bene I video su youtube Perché La traccia audio È la stessa Però finché sto da solo Finché sto da solo Com'è potibile Grazie mille Regà Grazie mille No io Non sto giocando Non sto giocando A Non sto giocando A Rainbow Six Fin Domenico Grazie per il follow Non sto giocando A Rainbow Six Sto scaricando Deccalisto Protocol Non so se lo conosci Tipo Death Space Sì La brutta copia Di Death Space E Non so come si è potibile Eh sì Eh sì Conosco ma non ci ho mai giocato Conosco ma non ci ho mai giocato Qua Residenze Ribelle Non ci sta nessuno Oddio Dieci Mamma mia Stavo a pensare Mamma mia Non si pentiva mai Dieci Io ho fatto de tutto Speravo vincesse il buon giochi Il pro player De Valorant Dieci Ma Non c'è stato modo Non c'è stato modo Hanno bocottato tutto Hanno bocottato tutto Oh peccato che a me Quegli eventi Chi è? Let's go Sì Oh dieci Grazie mille per il controller Di gioco appunto Ciao grappolo Ah dieci Io ti stavo a dire A me mi invitano A sti eventi Io non so perché Non mi invitano Boh A me non mi stanno più In vita Sti eventi serali Just chatting Gli ospiti Mi invitano più Oh sai qual è il discorso? Dieci Eh mi sono comportato troppo bene Poco content per gli altri A me mi invitano più Non gli ho regalato Oh non gli ho regalato Degli sfononi Eh Eh In un certo punto di vista Regà Quando si fanno i salotti Eccetera Io vedo che fanno a gara Chi la spara più grossa Perché capito? Per diventare virali Su tiktok Le pottino Eh io non voglio Cioè Ah se farite La battuta si Ma Bisogna anche No Cioè Non bisogna fare le cose Alla leggera Come fanno in tanti Quello no Su quello insomma No Mi ha sgamato Mi ha sgamato L'hai detto Andiamo qua Andiamo qua Andiamo qua Aspetta prendiamo se questo Tampò mi spadolano Ma io non ho scudo Non ho sciato Come potete dire Non so come si potete Se era anche da No 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 Mi sto riscaldando un attimo Ragazzuoli Perché insomma Se no Se no Liam mi spadolano subito Non che ci voglio moltissimo Per favore mi rispondi L'hanno tolta Schimano a casa L'hanno tolta ieri Non so perché Sia successa sta roba No perché non Quel programma Non viene accettato Molto bene Quello lì Quello da pc Dove diamine sono tutti Dove diamine siete Mi sarò fuori tutti No No Scusate Vieni qua Mamma mia Entra, entra questo Entra questo deretano Calmate, calmate Ma siamo dei cavalieri Non possiamo farci prendere dal panico Dobbiamo continuare Dobbiamo portare tutto a casa Bisogna portare tutto a casa, caro Ma chi è questo? Ehm, non lo so Cieco? Cieco? Cieco meraviglia? Cieco, marinoschi, maraviglia Marinoschi, maraviglia, cieco Ok, sono d'accordo Sì, ma tutto ciò dove era l'altro? Dove è andato? Maraviglia, marinocchi? Eccolo, lo che... Ok Oh, non può... No, no Ho preso quello che era un bot E invece dovevo via questo Mi sono sbagliato Mi sono sbagliato Eh, topa Quello ho sbagliato Ho chiappato quello invece di questo Regà, ho chiappato quello invece di questo Ho sbagliato personaggio Quello era un bot Questo era vero Devo sparacchiarlo Dovevo... Avrei dovuto sparacchiarlo Che VPN usi? No, non ce l'ho... Non ce l'ho manco E poi non ho ben capito Cosa... Cioè, a cosa serve nei videogiochi La VPN Boh Cioè, che ti fa? Ti facilita il gioco Che è tipo cheating Io so che tipo La VPN serve Per far capire Che sei In un altro stato Invece che in Italia Per vedere tipo Alcuni servizi Come, che ne so Non accessibili in Italia Ma sul versante di videogiochi Sarà che non mi sono mai informato Non so che cosa... A che cosa serva Per incontrare i bot E come fai a incontrare i bot? Mi scusi Non che mi interessi Però, insomma Che squadra di fit Tifo la Roma Caro Maranza Oh, ma su TikTok Se siamo spenti Oh, gli alert Oh Ogni follow nuovo Su TikTok Un alert che parte Se siamo spenti Ma com'è possibile Ma che bet facciamo? Marinoski vince la partita Marinoski vince oppure no Mi impegno? A questa mi impegno Grazie, Giordi Grazie, Emanuella Grazie, Luigi Vedi, vedi, vedi Grazie, Giulio Vedi? Com'è possibile Oh, ma siamo po' Eh, perché i follow I follow Servono i follow Servono i follow Ma siamo pochi Siamo pochi Chi è? Ah, pensavo era un alert Invece questo è dentro al gioco Ah, top Ma che ne so Faccia lei, Ale Faccia come le Le pare più giusto, Ale Faccia come le pare Faccia come le Ale Ciao, Mini Ciao, Jonas Sì, sì, vinciamo Cominciamo Com'è potibile? Inizio come si è potibile Grazie, angry Com'è potibile Com'è potibile? Inizio come si è potibile Grazie, Francesca Vedi, vedi, vedi Vedi come sa Vedi quei follow Quanto salgano gli spectre, regà Su TikTok Per far salire Bisogna followare Followare a rotta di collo Più follow Più entra gente Più fa Eh, vedi, vedi Più like cose L'ho rica Grazie per il follow Vedi, è così che funzionano TikTok È un algoritmo del tipo Ti piace il live? Follow, follow, follow 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 di qui Follow di là Follow di qui Follow di qua Sarà felicissimo Brutale Che ti aspetta da giorni Ti aspetta da giorni Brutale Ti aspetta da giorni Caro Bruni Anzi da giorni Sono mesi Sono mesi in realtà Ti aspetta in vocale Dice non se collega più Sì, da mesi Da mesi orsona Sarà contentissimo Secondo me Non vede l'ora Di rigiocare assieme Ne sono Sicurissimo Al 101% Vai il lobby Per cortesia C'è uno qua dentro Alma Uuuuh Ehi Ehi Uuuuh 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 Perché mi ha lasciato Sta Ah Scrocchia a mano Scrocchia a gollo Scrocchia a braccio Ok Ehi C'è uno qua dentro C'è uno qua No Spammone Ok Ehi Il tre colpi Non è male È proprio male Vai 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 Ma dove sta quello Di date i miei punti Che è successo Oh Mike Buonasera caro Buonasera Mike Che furti Buonasera Buon pomeriggio Ormai non ce ne so Poi che per niente Mike Ma a me mi è Ormai i giorni È un casino Che è Eh tu Grazie mille per i 5 bit Mi ero scordato L'alert di bit Ai 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 Ma è tutto Ottibile Non so come si è Ottibile Grazie mille Tanto per i follow Grazie mille anche a Auri Ciao Dai Oh c'è uno Ok In lobby Subito in lobby Chiaro Subito Subiti Lobby Ah bello rilassante Ah c'è ragione Su sta cosa è vera Dopo le 14 si può dire Anche buonasera E quando si dice Buon pomeriggio Oh mio dio L'urlo disperato Grazie a tu Voteteli bet Ah 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 Grazie mille per il follow Si chiama veramente Ah 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 Andiamo 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 Non so come si è Ottibile Oh Kratos Grazie per il follow Ma quando esci No shop Gaggette Ti sta aspettando Che mi scrivono pure Nei direct Quando esci Nei follow Se ne follow Quando esci Grazie Fede Grazie per il follow Germania dice Buongiorno Buone sera Ah non si dice Proprio un pomeriggio Eh sono troppo raro Lo so Kratos Non so come si è Ottibile Ciao Rico Grazie per il follow Team di piazza Grazie per il follow Questo follow Ma lì no Chi Oh a me ogni volta Iniziale Mi ruote il naso Perché Ciao amiche Com'è potibile Non so come si è Ottibile Com'è potibile Com'è potibile Com'è potibile Non so come si è potibile Dottoraccio pazzo Ciao Lorenzo Grazie per il follow Pronostico terminato Come pronostico è terminato Ah è la votazione Ok ok Adesso dobbiamo vedere Come ci classificheremo Ok Grande amiche Io so Un attimo Palese bot Molto bene Questo mirino Molto bene Ragazzi Eh si Eh si si Eh si si Eh si dobbiamo vincerla Si 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 Eh si si Magna Tara Marinocchi devi vincere qua Marinocchi è qua Marinocchi deve vincere tutto il game è qua Marinocchi è qua Marinocchi è là Marinocchi Marinocchi Dobbiamo vincerla Dobbiamo vincerla Mi ricordo di mille Vubax Magari Guarda Io ve lo vi consiglio De fare Ogni tanto Prendetevi Fortinet Crew Perché vi da qualche skin gratis E vi da il pass De Rocket League E vi da Mille Vubax Vi prendete un mese Fortinet Crew E vi prendete un sacco De roba Invece di Ci sta secondo me Cioè Secondo me conviene Vi danno pure una skin De Dove è cortopastro Centopastro C'è un grande topariello C'è un grande topo Da prendere E da mandare in lobby A chi ha partopastro Dove sei Dove sei Dove sei Dove sei Di essere Topastro E' un grande topo E' un grande topo A te A noi due No 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 A mani estremi Estremi rimedi Mamma mia Corcecco Come mi so Come mi so Come mi so Non lo so Ogni volta ci provo Ma io ti sto sempre a missa Non so perché E' Ehm Io sei per la puzza Io sei per la puzza E niente Corcecco Sarebbe stata una bella kill Sarebbero stati tutti Tutti figli Ridi me Invece niente Invece Scusate ma sento Dei strani Rumori E da mia Ogni tanto Ogni tanto Sai che c'è Che la gente va in bagno Dentro sta live E E' E' macello Com'è puttibile 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 Dai Dai Sbrigati Dobbiamo capire dove si andrà a chiudere la tempesta Per vincere il game E dire a tutti che siamo dei pro player Un pro player Gran pro player Riprende cieco Sì 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 Manco io Francesca E manco io Monia Non so come si è puttibile No Ok Non mi piace proprio Non mi piace proprio Non mi piace proprio Il DMR Anche se alcune volte Toccerebbe usarlo Xyudear Grande Xyuda Nick No no Lasci stare Nick Lasci stare Nick No No Nick E' un'amica E' un'amica Giorgio E' un'amica 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 Calma Calma State calmi State calmi Ok Oh no Ok State calmi Uiii Oh oh E' un'amica Nel senso Collega Collega No Non è un'amica Collega Oh Nel senso Oh Nel senso Un volto amico Ecco No Sta arrivando Oh Oh Datemi la forza Per vincere il game Non mi ha forza Ma le occhi No Un colpo Un colpo Regà Niente Non è C'è diciamo Il Non ha funzionato Niente paura per lui Niente paura per lui Gnone tra nome e marino Marino E schiti Ho chiamato Marioski Ma come Mario Io sono Marinoski Marino Chi Nick è un botto su brawl Va penso anche su Valorant Dai Se proprio C'è Nel senso Sì Dobbiamo andare Di cercare i giochi Anche un pochino No Anche un po' Valorant Non so Non so come sia Pottibile Non lo so Non lo so come sia Pottibile Oh ma tutto c'è Bruni Non c'è l'abbonamento Qua in chat Ma Bruni Ma come c'è fa Come i grossi streamer Bruni Ma non hai l'abbonamento Qui Non va bene Bruni Non è vero Non va bene No No Damian Lillo Lello Va bene No C'è stata la X Gialla Rega Vuol dire Connessioni Di Mil Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Anche il Prime Ma chissà Chi l'ha fatto Il Prime Sicuramente L'avrà fatta Ragio Colone Sicuramente L'ha fatta Ragio Colone Sicuramente Ragio Colone T'ho sicuro Magari A Pasqueta Magari Gliel'ha fatto Ieri Si A Salerno Si Cioè Ci sono passato Non ci sono Stato No Damiano Non credo Sia necessario Un milione Di iscritti Mamma mia No Ancora Con la croce Gialla Oh Basta che C'è Sta l'alert Una rosa Un Lesgoski Tutti I colori Mi dicono Vedete Con Lesgoski Una rosa Un Lesgoski Il Prime Mi scade il 7 A chi ti sei abbonato Robroni Voglio sapere Curiosità Come potete Non so come si Non so manco io Robroni si abbono Agli altri canali Regà Dopo che ci conosce Da 4 anni Che Luca Let's go Sì è così Che si fa Let's go Let's go Let's go Appunto Grazie Ciruzzo Let's go Eccolo Ecco Ciruzzo Eccolo là Il buon Ciruzzo Eccolo là Eccolo lì Eccolo là Oh Lillo e Greg E qua Tocca Cioè Tocca divertisse E qua E facciamo tutti Come lei Ci si annoia Ci si annoia Voglio dire Ci si annoia Poi lo sai qual è il discorso Lillo Che io funziono in questa maniera Più faccio battute Più divento un pro player Quindi in poche parole Se io non facessi tutte ste battute Oltre ad andare male la connessione Vedi che ne sto facendo meno del solito Non riuscirei a diventare Essere un pro player No E quindi tocca farle Tocca farle per Capito Per diventare i pro Tocca diventare i pro Lillo Guarda 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 Lillo guarda 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 Lillo Guarda che pro Mamma mia Che fortuna Che c'ha avuto Ah Lillo Quello è fortunato Come a te fortunato È scappato come un topo Come un topo volante Connessione di me Maiaiai Ogni volta che piove La team Non lo so La team Quando piove Si spaccano i cavi Mettiti i cavi Per cui ti sei ben coperti Questi cavi Questi cavi Abbiamo dato una bella Una bella craccata Quello di prima Quello sta sotto Com'è potibile Non so come sia potibile Meno io so come sia potibile Ma quello lì sta sotto Ciao bruschetta Mi sono mangiato una bruschetta ieri Veramente god Veramente buona 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 Molto buona La bruschetta ieri Molto buona Mi c'è fatto Riveni in mente La mangiata La bruschetta Grazie al tuo nickname Ehi ehi Ok Ah regà Questo si è nascosto Tu che mi aspetti Qui Tu che mi aspetti Da Nico Da Nico Che è Nico Che è Nico Non mi dì It's Nico Non mi dì It's Nico Non mi dì It's Nico Mi raccomando Io spero che non sia It's Nico Spero che non sia It's Nico Se è Nico Ti banno Ah so giocare So giocare No Nico È il primo che mi è venuto in mente Che gioca Blue Stars No È amico De lollo So scherzare So scherzare Amico De lollo Stava un piacere Bruni Arrivederci Ah allora no Non è It's Nico Allora abbannatelo Allora un altro Nico Abbannatelo Ma questo In mezzo c'è spuio Topastro Topastro Dai buco le gomme Dove vai senza gomme Dove vai Sei destinato a fermarti Cavolo Ti questi bulle Ti I cudisti I bulle Guarda come si è beveduto Oh 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 Ma guardate, ora mi devo vedere le spalle da questo Ho corrido Ho corrido Dove vai? Sì, è così Se torna quell'altro sono morto sì Eccola là, lo sapevo Se arriva quell'altro sono morto sì No, è un'altra ancora Ce voglio credere Mannagioschi Ah, è vero, tra i due litiganti il terzo cote Allora, che invitiamo? Vediamo un po' C'è qualcuno Pernoschi, da quant'è che non gioca Pernoschi? Da un anno È da un anno che non gioca il Pernoschi Guardi, guardate, guardate Fanatic Red due giorni, lo sappiamo Jack due settimane che non gioca a Fortnite Mamma mia, Jack ha abbandonato Fortnite Ma pure lui Ma lui c'ha Fortnite Crew Cioè, regà Ha Fortnite Crew Io non ho parole Io non ho parole Io non ho parole Ha Fortnite Crew E non si è buono al canale Aspetta il Prime Come far smettere i propri streamer di streamare Allora, comunque dicevamo Dicevamo Non so se c'è un quarto Invitiamo Piz Non so, scherzo Invitiamo Rax Vabbè, se c'è un quarto, raga, che se vuole unì Benvenga Io aspetto qualche minuto se c'è un quarto Oh, e via Yoel, dai Aspetto te Yoel Venga, venga, venga Allora, vado su Discord La Crew prende soldi da solo nella mia carta E faccia fare la stessa cosa sul canale Twitch Abbonamento Ah, regà Una cosa vi volevo dire Una cosa importante, regà No, seriamente Da questo mese Partiamo con l'obiettivo 100 abbonamenti livello 1 O comunque 100 punti abbonati Perché, regà Se per dire c'è qualcuno Che vuole regalare 5 abbonamenti Facesse il livello 3, regà Che possiamo Aumentare la ripartizione Per guadagnare qualcosina in più, ok? Invece del 50 e 50 60 e 40 Quindi mi raccomando Se avete la possibilità Fate l'abbonamento del livello 1 Poi ci faccio una campagna, insomma Nel senso No, ma che sta succedendo su TikTok? Su TikTok stanno tutti a dormire Regà, vi ho messo pure gli alert Evelin, grazie mille per il follow su Twitch Ragà, su TikTok Follow per come è potibile Una rosa Fate le sgoschi E qua Dobbiamo diventare money grabber Per colpa del sistema Dobbiamo diventare money grabber Ma è lega Allora, comunque Vi aspetto sul Discord A parte gli scherzi Aspetto sul Discord E nella sezione Quella lì Canale Sala live Cioè In attesa Che sposto chi c'è A proposito C'è il buon Gigione Gigione Buon pomeriggio Gigione Buon pomeriggio Buonasera Ah, buonasera C'è ragione Ma ha spiegato prima Mike Buonasera Buonasera E bella sghi Ciao Gianlu Buon pomeriggio Gianlu Sghi Eccolo qui Grande Gianlu Oh Gianlu Purtroppo io prima dei due Non riesco mai streamato Lo dico Perché C'ho sempre video da montare Un casino Letteralmente Vedrò Se streamare qualche sera Che ti ho visto Che attacchi un po' la sera Vediamo se riesco Se beccamo mai Gli orari Mannaggia La miseria Non se beccamo mai Sghi Tutto bene Tutto bene Hevelyn Tu come stai? Eh Cavolo Tu ce stai sempre Quello ho fatto Perché non ce sto io Naggia la miseria Mannaggia Allora vi sposto subito Ragazzi Eccoci qua Ragazzi Dagli I costi Follow Su tiktok Regà Dagli I costi Follow Ma che è? Allora È entrato uno spirito Nella chat vocale Che ora dirà sicuramente Di followarvi Giusto? Dica qualcosa Niente Se n'è nato Se n'è nato pure lo spirito Regà Ha defollowato pure lui Se n'è nato Allora no comunque Ah eccolo qua No ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Lei Spirito Qual è la La landa che le Piace di più Insomma Di fortemente Dove vuole atterrare adesso? Dove vuole atterrare? Bdb Body Db Ora parli di più Vediamo se funziona L'incantesimo O niente Non lo sento più Parlerà quando si sentirà Suaggio Parlerà quando si sentirà Suaggio Eh sì Eh sì Eh sì Ok ok Mi serve un kebab Adesso Mi serve un Guida Guida presenta Movimento lava Ma la prima volta Che ci gioco Ma chi ha messo la lava? Una lava Quanto vero Lava Lava come lava Ma chi ha messo la lava? Ti sento Ti sento Forti chi è Ma so io Ma sto parlando da solo Con la voce replicata Chi è quell'essere? Quell'essere sarò Certamente io Ah ma è con le costruzioni Dobbiamo cambia schermata Gli dividi Gli dividi Andiamo 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 ragazzi Andiamo Le sgoschi le sgossi E così che si fa Andiamoci qui Andiamoci là Andiamo andiamo Cigliamocela Cigliamocela Ma non mi dici che sei buggata la live di tiktok Che mi sento male Ma sei buggata la live di tiktok Ma qua ci stanno le armi vecchie Ma che ti chiede? Qua ci stanno tutte le armi dorate E lo so E lo so Non si capisce niente Allora vediamo un po' se la Vediamo se la live di tiktok Sei buggata rega Sei buggata sicuro C'ho sto presentimento rega Lo sapevo Mi sembrava strano Sei buggata la live di tiktok E siamo arrivati pure a 202 Così prima Mamma mia Ecco perché siamo calati Ecco perché eravamo calati rega Ecco perché eravamo calati Si era buggato tutto Buggato tutto Cose Tutte cose Buggate Com'è pottibile Com'è pottibile Ma vai là che c'è sta scritto Aspetta un po' In streamly Ma che Cose da pazzi Cose da pazzi Uscir pazzi da cose Letteralmente Magigione che sta a fare là sotto Ma che se sono tutti buggati Buggati pure in game Ma che sta succedendo? Che ha detto? Il mod è Nick Nick? È manco aperte Il mod Nick è manco aperte Ma no Non fa niente Nick Ma come Nick non fa niente? Veramente? Ma come non fa niente? Lo sto dicendo lei Mi scusi Ma come si permette Di informare Chi lavora qui E chi non abbandona mai La streaming Eh? Ogni riferimento è puramente Chi non abbandona mai le live Cioè ma che? Come è pottibile Hai detto bene Come è pottibile Come è pottibile Mi stai dicendo che ho ragione È vero C'è sta Brony che regà Abbandona la live Ritorna Come se fosse a casa sua E poi Infama Nick Che è sempre qui Pure quando piove Oh Cioè pure quando piove Pure quando fa una bella giornata Perché quando piove Stanno tutti a guardare la live Perché dicono tanto Un po' di moci Però vabbè Avete capito il ragionamento Ma che stai dicendo? Ma che cazzo Tutte armi d'oro Ma chi è a me Sta sta modalità Vorrei sapere io Io capo Tu l'hai farmata la lobby Ma pensa te Ho il gioco Come voleva Decide Che gioca a lui Mamma mia Il gioco Ma voi si farma Tantissimi materiali Men che non si dica Già sono arrivato a 500 Ho dato due botte A due alberi Che è? È una modalità Che praticamente Quando sale la lava E quindi devi costruire Perché se no mori Per quello Sì E metti tutto sotto Raga Forza con questi follow Su TikTok Che ci stanno gli alert Se no che io mi ho fatti a fa' Joello Grazie mille per il follow Vai di alert Raga Follow su TikTok E se quello parla Quello la parla Quello la chi Vedrete voi C'è uno che parla Se voi mettete follow Su TikTok C'è uno che parla Uno che canta Uno che Che mangia Tutti e tre Vedete Joelle Vedi che c'è sta Quello che dice Come potibbi Ma chi è? Io ancora Eh Robi Non so come sia potibile Gigi C'è questo che parla Parla Ma che se parla Boh Top 5 Proprio che sta salendo la lava Venite su Meglio forse Sta salendo la lava Aiee Regà C'è un po' di lava qui Aiee Regà Ma non c'è lava Ma non c'è lava Ma non c'è lava Ma non c'è lava Ma si può entrare E come no? Stavo tutti dentro la lava Aspetta fammi vedere se si può entrare dentro la lava Non credo Non credo Se possa entrare Cioè si può entrare Però ti fa male Ah ti fa male Ti fa male Ah si si Romy C'è pure il caffè e la pazza pure non è male Ma prima regà a me stavo a mangiare il pesto rosso regà Ma avete mai mangiato il pesto rosso per carità non vuoi mangiare Cioè nel senso meglio il pesto classico Ehiè Oh Brony Oh Oh Brony Oh Oh Qu'che Con chi vuole avere a che fare Brony Brbrbrbrbrbrbrbr Brony Brbrbrbrbrbrbrbrbrony Secondo me dobbiamo cercare di spostarci Non sto piano Brony 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 Ah Ah è detta non c'è stanno con nemico ma se fai punto esclamativo disco entri nel disco da di presenti su discord e le sgossi le sgossi e così che si fa o sandro sandro sandosa che dici sandro ogni tanto sandro ricompare pure lui se dove sandro l'ultima volta che ha partecipato alla live raga ha detto ma che è e no dicevo sandro l'ultima volta che è entrato in live ha detto vado a fare la spesa raga non è più tornato cioè nel senso è tornato oggi ma sta spesa ma l'hai fatta per le prossime decadi vero sandro per le prossime decadi ma che ti sei comprato ti sei comprato tutto quello che ti vuoi comprare non so come sia potibile che ha messo 30 giorni a fare la spesa raga ha messo una trentina dei giorni andiamo verso il rosso ping che ha fatto la spesa per tutti e sguro che hai comprato un po di riso un po di dei che dicevi di scusami ma come è impossibile come è impossibile che fa che fa io a ella eh che c'è iiii 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 ahahahahah cioè oh con sta cosa siamo nella milma raga ora io l'ho arrabbiatissimo ahahahahahahah ho fatto ho fatto una cosa all'aria io collone una cosa oh oh si stanno sparando io l'ho ma che è l'ago de garda l'ago de eh dall'altra parte ma questo è l'ago de garda io l'ho per forza è l'ago de garda è l'ago de lava l'ago de garda c'è nel senso oh e sta lava e non lo so di chi è inso no aia aia morire ah che lo dici meno male che gigione c'è meno male che gigione c'è eh ci provano adesso ci buttano giù mi sa il super gigione eccola mi sa che meglio se saliamo ancora un po' qua mi saluti eh prima e poi no ma noi no il follo non è partito chi ci spara ahi i potibili i potibili e finirà male no è la grazia 1 follo ma i e ahi 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 erbucio erbucio ahi 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 ahia diverso direttamente su alla o aspetta aia devo fare una missione aia 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 erbucio lucio non la vedo bene e una vita ma che avete una cura ieri sono un pochino visto male ho bisogno di una cura ieri avasta fatti dg eccoci non ho finito il 0 sono materiali ho preso uno a casissimo una casissima come farlo solamente cadere ma star ma fa cagare questa mitraglietta spara ovunque tranne dove voglio io ho fatto verso di strutture costruite lo sappia uno c'è non ha volutato bene robbie che era 6.000 per il là per il follo zoro come famo zoro qua mi sa che dobbiamo salire sali sali salga salga che è bruni che fa che fa bruni ma che fa è matto è matto bruni vado io vado io vado io aspetta aspetta aiutami andiamo su io e le vediamo io le che sta combina ma io la stanno volando ma chi sta push a io le li vuole uscire fuoco di copertura fuoco di copertura oggi c'è lo sparacchia ma io sono morto ma pure cigione è morto mamma mia a io l sta messo sta mezzo alla laguna di lollo lagustre attento maria nei cecchina demo a lollo sarvalo te prego salvate lollo lagustre nel chilling vi prego salvate il buon lollo il buon lollo lollo yaka a ca yo el come no certo che si yo el yo el forza yo el ciao robbie let's go schigo eh minemma cantaci una canzone te prego andiamo 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 let's go e così si fa io e così let's go eccoci qua metto una metto una canzone per io e le metto una canzone per io e le farò casare una canzone alla lollo questa chill rilassante let's go er kit er kit a io e le fatte subito che facciamo perché avere adesso io e l'ha appena detto è colpa della matriciana ci hanno messo poco guanciale mannaggia io l'avevo detto oggi c'è l'aggiornamento via consiglia che se metti bravo dio bravo bravo ci sono oggi c'è l'aggiornamento da live nel senso che ci sono gli alert se oggi mettiamo mettiamo la partita normale ovviamente sì 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 assolutamente assolutamente zero costruzioni la battaglia reale perché ha messo battaglia reale zero costruzioni ok e mettiamo pure la schermata giusta dai ebroni facci vedere come si torna ma chi è che parla ma come parla io come parla sì ma io e tutti si accorto che c'è il filtro attivo tu per tutto il tempo della voce della voce io e perciò io all'inizio dicevo entrato lo spirito non se n'era accorto raga apposano perché fatti diceva che alla prossima io e la loro non se n'era accorto raga ha avuto il filtro per tutta la durata dei match quindi vanno parlavano se capiva niente ok 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 dicevamo dicevamo terzetti terzetti allora terzetti non so se potibili ma c'era e così sì così io e lei non si sa buongiorno e grigio marino chi o raga io si ho messo squadre dimensione contenuto e ford dimensione se poteva mettere pure così per i commenti ogni volta mi c'è cavo mannaggia la miseria mannaggia commenti un pochino più grandi a mamma mia mamma mia ragazzi mamma mia quante cose non so quante cose non è meglio adesso adesso se sente bene adesso meglio sì 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 ma il mio volume va bene o devo alzare la tua bene oa che era io e le ciava tipo la cosa d'ospira io e le dei bottini quindi tutta la gente che sentito questi giorni ti sentiva così diciamo sì 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 ovviamente non ci hanno capito niente io e le io te ti consiglio di riparla con tutti i irdi ho parlato o bello a inc Zeus ci sono scoporti allora grazie adesso facciamo una cosa con tutta la chat veramente stasera lo zapetto rispadale adesso facciamo unaוס tutti concetti ok tutti contro tutti allora devo soltanto trovarla chi si vuole unire per giocare Possiamo fare la zone wars O se no Possiamo fare ancora una cosa migliore Sapete che facciamo Ci possiamo fare Visto che è stato Joshua mi ha dato l'ispirazione Non so quanto Facciamo una partita a rocket racing Una partita su rocket racing No io non ci ho mai giocato Non so giocarci Non ci hai giocato Meglio così Seleziona Facciamo privata Privata E potete unirvi Basta che fate Basta che vi unite Chi vuole giocare a rocket racing Non vuoi venire a rocket racing Nessuno Non vi garba Non vi garba rocket racing Chi se vuole fa una garetta Una sgommata Una sgommatina Oh rocket racing Raga basta che Ma come fanno qua Su rocket racing Vediamo se è il caso Vediamo se è il caso Startamo in tre Come parte sempre sta alert Probabilmente arriverò ultimo Perché non ho mai giocato Però ci provo Startamo in tre Parte Io non vedo Ah ok Sì Grazie mille per il follo Ora vedo Ora vedo Tanto grazie mille per il follo Forza raga Con sti follo Oh stavo già Famo se sta partita rocket racing Vediamo come va sto gioco Regà Vediamo come va Siccome te vi faccio un ban Eh pure io Parecchi 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 Oh c'è anche il nuovo alert 5 abbonamenti regalati Bellissimo 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 Nuovo alert Incredibile Nishi Grazie mille per il follo Le sgoschi Le sgoschi Andiamo andiamo Oh Joshua Scaricate rocket racing Guardate bottino Puoi scaricare pure a parte Le hanno scissi Le hanno staccati Basta c'è Non devi avere più forza a porta Guarda che macchina che c'ho Ah Joshua Prima non c'avevo Guarda E macchine serie Ah Joe Stiamo sul circuito Super Mario Hai visto Io Chi parte l'ultimo Come si gioca Stai preoccupato Stai preoccupato GG è già primo Come si gioca a primo Credibile Non ho mai giocato Come si gioca a primo Come si gioca a primo Incredibile È il circuito De Super Mario È ora che ti raggiungo Sì, è così Napoli, grazie per i due TikTok Sì, è così Eh, mi sa che qua arrivo un ultimo io Sono un pro player di Rocket Racing Sono il migliore Sono il migliore ragazzi, basta Sono il migliore dei peggiori No, non è vero, sono il migliore basta Eh, va bene, ma sei avanti i chilometri Dai, mamma mia ragazzi Prese il muro, prese il muro Guardrail, guardrail Sì, let's go Sì, è così Grazie a Gabri per la rosa E per il follow Mamma mia ragazzi È così che si fa Mamma mia No, non muro Oh, no, non muro Oh, no, non muro Io vedo Broglie all'orizzonte No, ho sbagliato Sono andato dall'altra parte Si fa, si fa, si vola Vai, 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 vai Facciamo vedere a tutti chi è che comanda Io sono di Roma Sono di Roma Sono Romano Doc, ovviamente È così che si fa uno spritz È così Let's go Così a caso Oh, c'è uno che sta arrivando Sento il rombo Sento il rombo di qualcuno alle mie spalle È il tuo, è il tuo rombo Lo sento, lo sento, ragazzi C'è qualcuno qui dietro Roma anche te Let's go Siamo tutti romani allora No, non è vero No, è arrivato Si è riaccesa la sfida Guardalo Ma io non mi vedo neanche È arrivato Bronei È arrivato Bronei No No, non è vero Non è finita, regà Non è finita Ho sbagliato Ho sbagliato di insultare Ho sbagliato Non è finita affatto Pensavo fosse il treguardo, regà Mi stavo a spaventare Mi sono giocato tutto Eh, ma io sto sbattendo sui muri In una maniera incredibile È buono, buono Ci sta Ok, sai qual è? Ho sbattuto io Adesso ai muri Troppo No, non c'è credo Ok, Fast Furious È diventato No, no Ma ha vinto alla fine Sto faggiano dei Broni Guardalo Lui è il suo nos Lui è il suo nos No Lui è il suo Maledetto nos No, come ultimo Ma quanti giri abbiamo messo? 18.000 giri Eh, ha fatto il gran premio, regà Ma siamo matti Siamo proprio pazzi comunque Siamo pazzi Abbiamo messo 5 giri, regà Ma che stiamo Ma da Ma siamo mal Siamo tutti e tremmati Lunghetto 5 giri Porca miseria C'è sta Così C'è sta Vettel Che sta Finita la gara sua Noi stiamo ancora a cuore Allora Ma dai Ma dai So sbatte Contro tutti i muri Ma dai So sbatte contro tutti i muri Ma parlo un po' più indietro, no? Oh, vedo qualcuno all'orizzonte Ma io so sbagliare pure i boost, regà Certe cose non vanno sbagliare Io l'ho convinto fossero tre giri Oh, comunque tutta sta vibrazione del controller Regà Mi sta Mi sta a partire Oh No, di poco Ma io che è il migliore Come voleva si dimostrare Ultimo Ma che è quel nickname? Ma B Ma Ma che cosa stai Cominia? Ma che nickname è? Allora, comunque diciamo Torniamo in lobby Qua Ma da ieri a 6 minuti e 41 Di concentrazione Così tanto è durata Io la so su da Ok, in vera Durata una live Allora Devo vincere Però la partenza Eeeh Non so giocare niente Io Eeeh 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 Allora Tilted zone Seleziona Partita privata Regà Chiunque si vuole unire Basta che fate Che vi aggiungete Ok Oh Si ammattia subito Marino Alessandro Sta arriva Secondo me Alessandro Arriva Eccolo là Ti voglio bene Non l'hai mica capito Ti tiri diri 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 Tuntutun 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 Oh Svudi Vai Andiamo Svudi Svu Ciao Pesce secco Ciao Asa Com'è potibile Com'è potibile Io non so Mi sia potibile Manco io Com'è potibile Com'è potibile La 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 Andiamo 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 Com'è potibile Non so Com'è potibile Quanto c'è Oh regà Gigio Svudi Mettete pronto Sennò qua Non iniziamo più Ma non mi sono Iniziamo tra gli altri No dopo entrano Entrano a match in corso Sennò sai Giocamo Tra un anno Ti presentare su discord Wasa Ti devi Presentare su discord Sono su discord Amo disposto Svudi Ecco ti è qua Hola Eccolo qui Eccolo qua Ciao Svudi Albo lei Salve lei caro Salve lei Eccoci qua Ripottino Ripottino Auguri per Pasqua comunque Oh auguri pure a te Anche se è un po' in ritardo Tanto basta che uno Si è maniato tutto Si siamo maniati tutto Io Pasqua era il torneo E il torneo Magniate di te Si è maniato tutto Durante l'intervallo Te potino Te potino Era vergognoso Era vergognoso Te potino C'è stata la ricompensa Comunica di canale Con lo seo Io dico E non è proprio Con lo seo Ah questa con le costruzioni Regà vedo Cambia schermata Amo posturi e tutto Che che No ma si No Mi ha laserato Prima laserata Ma come livello 1 io No è un bug Che anche a me succede Ti segui tutti i livelli per 0 A post Livello 1 Marinocchia Ah proprio così E ti fa tutti i livelli Finchè non arrivi A quello che sei Capirai Tran ora Ok Che è stato Svudi 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 Titiririri Svudi Svudi Titiriri Titiriri Oh C'è che vede Oh C'è che vede Oh Oh No Broni Demirma Oh 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 Eh vabbè No Non potevo fare nulla Non Non si poteva fare Non si poteva fare Ciao Luigi Oh chi è? Oh grande Aspetta Manuel 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 E' Manuel Ma andiamo in lobby Comunque Luigi Ti uniccheremo va bene Soltanto Come sei nascosto la mamma Non va bene Non va bene Luigi Uè Lore Tutto bene Tutto sparito Uè 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 Nooo Ah ok Scusate ma Ho una domanda Lo shieldone è grosso Non si può fare mentre si cammina A me Forse la mamma questa qua non la va a fare A me sta fermo come in tonno Air player fermo come No Ma dai C'è sta cazzo Che ci mette tre anni Ci stanno Eh non lo so come sia potibile Spike Milan Alessandro Non so come sia potibile E Gora Manco io Non so come sia potibile Cosa non è vero Cere Cere Cosa sta dicendo Cosa sta dicendo Il buon Lore Ok tutto bene Lore Tu che dici Dici il mio nome per favore Credo proprio Non credo proprio Caro Non credo proprio No andiamo andiamo Ok Eeeh Buongiorno Buongiorno Ma che vuole Buongiorno Brony 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 Arrivederci 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 Brony Arrivederci Non prenderà mai Brony Non prenderà mai Brony Dove Sei Brony Eccoci qua Ecco Brony Madò Andiamo a colpo Dei tosse Incredibile Ok Andai sta Andai sta quel topà Dove sta Brony E il topaccio E il topaccio Brony Lo vedete qua Un cecchino In testa Brony Ah no C'è più Brony Sì sì C'è C'è E' sopra di lei E' sopra di me Uuuu Uuuu Un topo volante Vedo Vedo che c'è un topo volante Lì sopra Sì Un topo volante Un toparello C'è solo Un topo bello Un toparello Oddio Oddio No Oh stavo in mezzo a un panino Stavo in mezzo a un panino Tutto bene Beatrix Tu come stai cara Come stai Com'è andata Pasqua e Pasquetta No non lo so Non lo so Non lo so Non lo so Ilore Ma può essere che ti ha riconosciuto A qualche altra streaming Magari ci parlavi Con il buon cere Pure io Pure io Ho mangiato dormito Ma mi sono regolato Beh Sai com'è Non allenandosi Non voglio far crescere La panza Voglio mantenere Nelle certe linee Eh no Regà No ieri Mi sono mangiato Mezzo ovo Quindi Stavo calmi Stavo calmi Marino Chi Marino Chi Poi l'altro giorno Mi sono mangiato Pure un po' De colomba Insomma Toccate Sto attenti Non male Diciamo Parca miseria Passamo D'anno estremo All'altro Passamo Dai digiuni A mangiare Seduto Sì E qua Siamo passati Dai partite Normali Aggreative Per farvi capire Oh C'è fatto qui Ah guardate Non c'è Ma Oh Chi è Ma no Ma no Gigi Chi ti ha visto Sei rinascosto Quante vite Ti ho lasciato Ma Bruni Io ormai Sono un pro player Lei non può trattarmi Come una pippa Io ormai Sono un pro player Io quando È successo Il Sgoski Sono diventato Un pro Bruni Ormai Dovresti saperlo No Non ci credo Non ci credo Guarda Sfudi Sfudi No Sfudi Sfudi Gigi Sfudi Mannaggia 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 Ok Mi sa che Finché rimaniamo Così pochi C'è come Nanna fa Trovano Non fassano Non fassano Non fassano Normali Namo Namo Tanto qui E Che pensavo Anche perché La gente Secondo me Lì Credi Vedo Ma un po' Rompono le palle Non so perché Non so perché Ma rompono le palle A me Sono scarsi Non so No no Dico a te Dico a chi guarda Come se fossero Noiose Da vedere Cioè Anche io Per dire Quando guardo Le streaming Se qualcuno portasse Per dire La creativa Io stesso Non la guarderei E la porto So pazzo È un pochino È un pochino Un pochino Com'è potibile Mi segui Mi segui Mi segui Eeeh Frenze Non so come sia potibile Neppure io Non lo so neppure io Non so neppure io Oh ma tutto ciò Beatrix Io non ti ho dato il VIP A te oh Ma che stiamo a giocare Ma Ma come si fa dal VIP Da qua Aspetta un po' Vedete Ah Se può fa Senza che vado là dentro Concedi Ma sì Ma subito Ecco qua Let's go No io ho dato a lei Boh Per amore sì Ah è lei È lei Ok ok No perché Mentre scriveva Minuscolo Invece è maiuscolo Guarda Gigione Subito Come si infila Gigione Guarda Guarda Gigione Lei è anche in vocale Lei si insinua Si infila Ma Beatrix Perché è una collega Perché è una collega Ok Sì sì Mi stavo scherzando Non si scherza Non si scherza No sto scherzando Sto scherzando Anch'io Ah Bruni c'è il VIP Guardano poi io lo torgo Perché è scomparso Ricompare Un po' Un po' Bruni Facciamo volare Bruni Guarda Marco parla Guarda Mamma Figura di Beatrix Io Gli alcune volte Non ci sono Dovrebbe mettere Pronto Bruni Eh infatti Quello che mi stavo chiedendo Anche io Gario Ah mannaggiamo Eh non ho fatto niente Io con le Bruni Che fa bug al gioco Bruni Menta Brunto Mi raccomando Mi raccomando Come non Non riesci? Ah Bruni Bruni Che ha detto Bruni Sei annato? Ok Bruni Va bene Cosa è nato Non capisco Elisa Grazie mille per il follo Gabriella Sgib Benvenuto Gabriella Io faccio questo Poi vado Va bene Va bene Che aggiornamento Quindi non posso giocare Devo prima aggiornarlo Ah ok Come va Come ha fatto a giocare Fino a momodi Spiega Vabbè Alla fine si sa Quando esce la modalità Quello in prima persona Io penso che uscirà Con la Fortinetto G Ha trovato la partita Meno male Meno 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 male Io spero mai Beatrix Preparate a costruire Tutta impazzita Che vedi in visuale In prima persona Dici ma dove sta Nemico Dici se muri davanti Dici ma dove sta Ma sai che macello Beatrix Io già me immagino Cosa succederà Ai 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 Ma è Beatrix Lì secondo me Poi voglia lanciarli Sai come gli lanci Porco De qua Porco Che cosa Che cosa Beatrix Impazzirà Impazzirà Che sai di Bruni Mi dica Mi dica Io mi muto Io mi muto Per la finisce Posso Rivengo Ok va bene Tanto è un gigabyte Ah va bene Va bene Beatrix Abbannano Ragazzi Bann da Twitch Per due settimane Poi va a Santo Domingo A fare una vacanza A canna tutto Se no Sicuramente Sicuramente Abbiamo già finito Zowers E sai gale Eramo nei quattro Si stava un po' stufa Se ci fossero state Una decina di persone Eccetera Ci saremmo divertite Non andiamo Ci saremmo un bel po' divertite Dove andiamo Andiamo a dissi Seduello Io scendo subito Come è possibile Andiamo 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 Amante del pericolo Io non ci sono andato Ci sono andati alcuni Amici miei È bellissimo Stai là Non fai niente Tipo dieci giorni Due settimane Tutto compreso Open bar Ma Fai i bagni Mentre qua fa freddo Là sta fatta i bagni È bellissimo Io vado su questa casa qui Io prima o poi Ci andrò Prima o poi ci andrò Per il momento Non c'è un motivo Ok Prima o poi ci andrò Vieni qua Dove sta? Oh c'è un nemico la mia? Ma che fa? Ah È un botto Un botto Un botto Buttazzo Chi è quello là? Io ho le splash In caso Pizza unicorno Questa si chiama Buona pizza unicorno Buona pizza unicorno Ci credo Niente stress Niente Mamma mia Che bello Mamma mia Che bello E appena ti arriva Un messaggio Di voto Di qualcuno Oh sezi Ma È bene È bene E lei È Come è puttibile? Eh Ehi Come è puttibile? Non so come sia puttibile Senti Volevo chiedere Ma Per caso È impossibile È bello Ma c'è la pizza Les goschi Oh ma lascia perdere Che qua tra Gente che fa i panini Gente che fa i Come si chiama? Le ova dei pasqua Vabbè Qua tocca fare la pizza Les goschi Ancora non esiste La pizza les goschi Faccio dalla percentuale È bella idea A livello di business Beatrix Non Non è affatto male Non è affatto male Devo dire Se venite io Ma c'è una pizza Les goschi Su Just it Ma gente Valla Pizza les goschi E qual è qua? Bellissimo Ci starebbe in sala Pizza les goschi Sì è così che si fa Ah È sì È così che si fa Una pinza nel 2024 C'abbiamo pure lo slogan C'è abbiamo pure lo slogan Puro lo slogan Eccomi qua Ingredienti quali però Mario Eh? Ah ma ingredienti che Ma non ti dico Perché sennò me la copiano C'è Non posso Non posso dire un live Di certo guarda Quello che ti posso dire Che non sarà la pinza Con l'ananas Se no Mi insultano tutti Però Oh alla prossima Beatrix Si figuri Si figuri Fassi un buon pomeriggio Buona serata Grazie mille Grazie mille Salutare mi chiamo Giovanni Bella sghi Eccoci qui Eccoci qua Joey Oh questo colmirino Tanta roba Possiamo dire addio Il fattorino Dire solo che il fattorino Ma è Ah nick a casa tua Porta la pinza Les goschi a casa tua Let's go Let's go Sì è così Joey Grazie per le sei rose E io sei partito pure L'alert Del Let's go Ski Let's go Eh Anto Non so che sia potibile È partito pure con lei Visto È partito pure con lei Anto Ci stanno messo un pochino Di alert Raga Strappavi in sorriso Vediamo Vediamo un po' Vediamo un po' Che si può fare Vediamo un po' Che cosa si può fare Magari nasce una partita buona Qua che ancora Per il momento Hanno messo qualcosa nuovo Alle 15 A qualcuno gli è scattato L'aggiornamento A me personalmente No Però si Avranno messo qualcosa Grande Joey E' zgosgi Eccolo qui Eccolo qua Joey Stiamo facendo pubblico oggi Non serve il discorso dei ranked Cazzo Stiamo facendo le pubbliche Hanno sballato I nuovi sensibilità No Joe Com'è potibile Com'è potibile Non lo so manco io Come se è possibile Ewe Che bella sghi Eccoci qui Eccoci qua Eccoci qua Parapira Parapà Ciao Eto Andiamo andiamo ragazzi andiamo Che è successo Isidoro 100 secondi All'improvviso arriva Stream Elements E pam Lo time whatta così Che si dice Stream Elements Io spero che Stream Elements abbia fatto bene Alessandra mi aggiorni Mi aggiorni se Stream Elements ha fatto ciò che doveva Oh Stream Elements non ci ha pensato due volte Che ha detto che ha detto Eh no però aspetta Sospensione annullata che è successo No non ha fatto bene che ha scritto easy Io non posso vedere che cosa ha scritto È stato troppo veloce Stream Elements Ah ok Stream Elements è pazzo Oh profumini Grande profumino Profumino Vabbè Ma che ne so Isidoro qua Stream Elements Ogni tanto impazzisce Schive robe Guardi Non so chi cosa dille Ah no aspetta Ah perché te sei auto Ok Boh ma che ne so Oh Brune Non ho cominciato a gufare Non ho cominciato a gufare Mi raccomando Ragazzi Io vi ricordo che potete abbonarvi gratis Se avete il Prime Per aiutarmi a continuare a fare le streaming Oggi è uscito un nuovo video di Fortnite Stasera esce un nuovo video di Spider-Man Poi mi devo registrare pure Rise of the Ronin Dragon's Dogma Ci sono dei video di Overwatch Un'uscita Ci sono short Un'uscita Non ho più una vita E che non è vero Quella ce l'ho Sto scherzando Eccoci qui Eccoci qua Stasera se riusciamo Vorrei andare pure live Voglio fare una chiacchiera Con qualcuno Che ne so Perché non mi invitano A qualche talk show Per dire Buonasera Marinocchi Marinocchi Eccoci qui Eccoci qua Niente Non sono più famoso Regà E' finita E' finito tutto In realtà mi piaceva Andare ogni tanto ospite da qualcuno Però poi non mi hanno più invitato Così funziona Regà Bisogna lamentarsi Non mi ha più invitato Non mi ha più invitato Mi ha fatto Fa pochi clip Pochi clip Pochi scandali Pochi Zero scandali E' perché tu sei troppo a posto E' so' troppo a posto Capito Incredibile Regà Chi è troppo a posto Non viene invitato Ma è puttibile Passi sul treno Oh è vero È vero Qualcuno sul mio treno Oh Dove vai Che fa E' ricco E' cattivissimo Questo Cattivo Cattivo Molto cattivo Sto arrivando No tanto sta terra Però E' piccone Ecco qua C'è il melodione Su quella montagna Mi sa Ok Eh sì C'è il melodione Arrivo 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 Subito E' poi in giro Arrivo 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 C'è qualcuno C'è qualcuno che sparacchia E' qui sopra Ok a terra Sergio a terra Sergio a terra Lo sta Eccolo Ok Sergio Il lobby Che è stabilità Il destino E cos'è che si è stabilito il destino Nel 2024 No non era lui Ecco non era lui Abbiamo controllato Non era lui E si chiamava Si chiamava Gioacchino Gioacchino Ttv E' probabilmente Un tiktoker Un tiktoker Che Che si mette sempre Nel gabinetto E A fightare E' proprio la sua specialità Vince i game Nascondendosi nei gabinetti Di fortnite Eh sì Andiamo 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 Già sono qui Eh lo so Se nasconde nei gabinetti Checco E poi spunta fuori Come un fungo All'improvviso Ho visto certe clip Bellissime Bellissime Andiamo 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 Ma io vado a sinistra Allora Mitraglietta d'oro D'oro Qualità ovo Uh molto bene Posso prendere questo qui Viola Cettamente che ero Grazie Grazie Se figuri Ma sta arriva qualcuno Ragazzi sta arriva qualcuno No Ero io L'avanti No Ah Come non dite allora Come non dite C'è chino qua Io più che altro Sai che devo fare Lo spammone Facciamo Si Però lo spammone Vorrei un attimino Un po' dei colpi In più Ma già ci sta una cosa Dei colpi A mente come ci era caricato No Non c'era Marinocchi E coci Oh no Marinocchi Io lo so Ah Dove mettermi Lino Quello a posto Bene bene Andiamo 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 Possiamo andare Possiamo andare Ciao Dani Benvenuto Benvenuti a tutti Comunque ragazzuoli Ewe Basta che ti iscrivi a discord Molte schiamativo discord Su twitch Mi raccomando Mi raccomando Poi la sera ho visto Che ci stanno alcuni creator Con cui vorrei giocare Il giorno non ci stanno Com'è potibile Ovviamente il discorso Non lo dirà Purtroppo oggi La gente segue In base al meme Fateci caso Nasce un meme La gente lo segue E poi lo dimentico Personalmente anche io Te ho conosciuto così Ma quando posso Entro sempre in body live Mi piace Ah ti ringrazio Eh ma io lo sei Messo accorgere Sta cosa easy Io sto Cioè ma parte il meme Sto troppo a posto Cioè nel senso Io vedo certe cose Su tiktok Cioè su tiktok Vedi quello che Cioè non vedi cose I pacate Non so se mi spiego Cioè vedi cose Proprio trash Tra quelle c'è pure Le sgossi Tutte le suoni Cos'hai Cos'hai Che magari La prima volta La gente Ma chi è questo Ma chi è questo Ma chi è potibile Però in effetti Se non fai qualcosa Di veramente cringe In generale Te parlo Fatì Cioè ma pure Guarda Pure lo stesso Non so dissing Questi Soltanto punti di vista Pure lo stesso Dario Moccia Che dice cose Molto intelligente Eccetera Se ne esce Con delle cavolate Allucinanti No con delle cavolate Allucinanti Inteso come Delle trollate Ok Trollate Trollate Con delle trollate Sai quando Scherza con qualcuno Da tutti Rega per forza Per forza Per forza Se tu non tenesci Con qualcosa Di pure Sopra le righe Non ti freeboot Non ti fanno I freebooting Ste robe qua E non Altre persone Non ti conoscono Di lì a poco E così E così Non ci puoi fare niente Cioè pure Per dire Manuxo No Manuxo Tutte quelle cose Che faceva su Trezza No Che scrivi Mandava i vocali Faceva così Faceva colà Quello gli ha dato Modo di conoscersi Poi quello Nulla vieta Che Manuxo Sia una bravissima persona Però Sono tutte Bravi persone Chi più Chi meno Ok Però ci deve Sta quella componente Per attirare L'attenzione Che la gente Dice Ma questo Che è successo Quello ha fatto così Quello ha fatto quella Ma è pottibile Quello ha detto questo Quello ha detto Quell'altro Cioè non so se mi spiego Regà E Cioè io Finché accadono Ste cose Cioè cose divertenti Mi taglio Mi taglio Dalle risate Però se tipo Vedo invece Gente che Poi c'è Un altro modo Di aizzare La conversazione Con le bestemmie Che a me non piace Sinceramente Che qualcuno Attirare l'attenzione Bestemiando E basta No Ci stanno alcuni Che fanno Sia quello Che anche altro Però se tipo Uno Alza Cioè attira L'attenzione Con la bestemmie A caso Non mi piace Quello Però se attira Per dire una cosa Divertente Trololol Una risata Una cosa Qualcosa Che è Quello si Però tipo Se uno deve attirare La cosa Con la bestemmie No Non mi piace A quel punto No A quel punto Sono sincero No Perché è come se In quel momento Tu non hai niente Da dire Quindi dici Che come colmo Sto vuoto Sbrocco A caso Per Per svegliare La gente Che sta a guardare E a quel punto Non mi piace A quel punto Non mi piace Sì Se non è cringe La gente che lo fa Ma la gente vuole Eh capito Ma io Per carità Ma ci sta Ci sta alla fine Però Dipende quanto Dipende quanto Allora Però Lo sai qual è La cosa De Marz È che lui Non lo fa Con cattiveria C'è stanno Alcune persone Che lo fanno Con cattiveria Lui lo fa Proprio perché Spontaneo Non lo fa Cioè Lo capisci Quando lo dice Poi Anche lui Alcune volte Estremizza Isagera Però Gaz Non lo fa Con cattiveria Se vede Cioè È il suo Modo De S Non lo puoi Cambiare È quello Cioè Poi invece Che stanno alcuni Lo fanno proprio Con Se vede Che lo fanno Proprio in generale Sì Ma pure Quando lo dice C'è te scappa La risata Perché Vedi Che lo fa Lo fa Con bontà È strano Da dire Cioè Lo fa proprio Capito Manco se ne accorge Alcune Alcune volte Secondo me Cioè Alcune volte Secondo me Manco se ne accorge Alcune volte Alcune volte Invece Lo fa pure lui Ma Poi in discorso Si 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 È strano Da dire Ma Penso che sia L'unico Che lo fa Capito Che gli viene Dal profondo Del cuore Fa ride Fa veramente ride Poi regà Io ogni volta Guardo il live Sua Mi dissa Mi dissa Ogni volta Regà Ma mi dissa Però facendo Ragionamenti corretti A me mi fa tagliare Perché mi ritrovo Sempre in quel momento Che mi paragona Sempre in quel momento Regà Sempre in quel momento Cioè Capita Ah capitato Due tre volte Non di più Ma a parte In quel momento Stavo là Incredibile Ma poi Mi fai Mi paragona Su fortuna E altra gente Mi sono tagliato E giuro Quando stavo là Ho detto Ma E poi mi ha fatto Tipo Tocca Marie Tocca Marie No Tocca Ci devi Stare T'ho capito Però Insomma Mi sembra molto Mi sembra molto Incredibile Voi direte come E per niente Stava parlando Del medaglione Quello lì Che ti dà La velocità Regà Perché Hai presente Il medaglione Quello che ti fa Fai gli scatti O dico pure A chi è invocato Quello lì Non mi ricordo Il medaglione Non lo so Però Insomma Il ragionamento Sapete qual era Perché quei medaglioni Sono troppo forti Perché se tu metti Il medaglione Quello là Degli slalom Che fai tipo Quello che ti dà il lago Se tu metti il medaglione Genera Belusi Quello ti Va due per Ti one clappa Eccetera Poi un conto Invece se t'hai quel medaglione E Marinoski E Alice Goski Quello Oddio Perché Perché Buttazzi Lo sono tagliato Stavo lì O così Tutto bene Gabriel Tutto bene Tutto molto bene Tutto molto bene Oh regà Sette kill Sei persone Due titoli Tre contro tre E lì sono gli ultimi tre E quindi Mi sono morto Dalle risate Regà Io lì per lì C'è stavo rimanendo male Però poi ho detto C'ha ragione Ha ragione Non si può dire nulla Oh buono qua Oh dove sta C'è sfuglio C'è sfuglio Ottimo Ottimo La bolla La bolla La vendola Piena macchina No No la macchina Ci sta Vedo Alla prossima Se sta cagando sotto Gigi Gigi Va cagare Se sta cagando sotto Se vediamo alla prossima Allora Gigi Mi raccomando Falla tutta Bello Gigi Grande Gigi Grande Gigi Pure dei tiri Mamma mia Pure Ale Spontaneamente Maria mi hai giocato con Pizze Sì Andiamo a giocare con Pizze Vai Andiamo a giocare con Pizze Andiamo a giocare con Pizze Allora Dov'è Ciao Ciao bello Gigi La Pizze non c'è sta Ah eccolo Ma sta a giocare Realistica Ma che fa Realistica Versione 2 Regà Che volete vedere adesso Che cam usi La Sony 6000L Alpha Moby Pizze in live Ah è in live Ma non so se vuole giocare con me Pizze Ma che sta a fare Ma se sta a allenare Ma non per Ma se sta a allenare Qua Chi sta a giocare Gigi Topastri Ma giochiamo con l'uella O l'uella Nettuno sta su Brawl Stars Ma Ah no Ok No Ho visto mal Ho visto male Io non ho scrivato Solo dare pure Ieri Oh bello Alla prossima Ski Sei proprio Sei proprio Cioè Broni Lei ci sta Broni Broni Eh sì Sì E Rank Ti devo fa Sereo costruzioni Perché te prego Quei classificati con l'altra Non mi fa fa Che mi spadolano Dai Io mi fido di lei Broni Io mi fido di lei Anzi guarda Ti metto pure una skin super Per Rankare bene Ma proprio Rankare Rankare bene 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 Se faccio un tempo Chiaramente Questo Togliamo il mantello Il piccone Gli dammo Tipo Una spadina Bella Deltaplano L'ombrello La scia La scia La tolgo proprio Rega Non voglio farmi No come lanterna Per forza Ma una scia Che non mi faccia Spottare ogni volta Esiste? Ah questa qua Questa qua Dai La meno Forse una delle meno Peggio Che è questo? Vabbè io Tifogli Laura no No Laura La devo togliere Io Ma Laura Non ti fa niente Sicuro Speriamo E mi fa qualcosa Siamo finiti Proprio Siamo letteralmente Finiti Rega Ranked Alla Brune Io mi concentrano Tantissimo Oggi dobbiamo Arrivare Campione Allora Brune Lei vuole essere Il mio mate Per le zero costruzioni Dai Io non posso giocare molto No Brune Tu sei forte Brune Fida Brune Te sei fortissimo Ti devi solo impegnare Brune Ti devi far sognare la chat Ma come è buttibile? Non so come si è buttibile Omar Vedrai che Brune Farà sognare la chat Adesso Allora Se vuoi Andiamo o lì O qua Se vuoi Questo è il mio Lento Dai il mio Lento Dai quello là Brune Facciamo sognare la chat Dai Let's go Sì è così Si verrà anche De rega Spatoleremo tutti Ora Andiamo 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 E Brune Ce l'abbiamo noi Oh Oh E Brune Ce l'abbiamo noi Oh Oh This is Proprio Brune Wow Wow Ciao Albi Ma c'è più gente Qua che non Brune Devi stare tranquillo Con me Se una botta di ferro Dobbiamo solo Prende un'arma Brune Il tuo obiettivo E prende un'arma E spatola a tutti Mi ha spatola Eh Un uomo in codice E spatola C'è uno a me Tanto Vabbè Buono Indu Aspettandomi Brune Brune Quanti erano da te Eh Cinque Come cinque Ma stavi dentro fuori Do stavo io Dentro Sta Mamma mia Bru Ah che le devo dire Bru E le devo dire Che le devo dire Che le devo dire Dobbiamo scendere insieme Dobbiamo scendere insieme No guarda questi Tito Pastri Annaggito Pastri Ciao Ciro E Ciruz Ciruz Bella Ciruz Ciao Ciruzo Mi hai trovato Mi hai trovato Come stai Come stai Come stai Ma com'è potibile Dai 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 Andiamo andiamo Forza forza ce la dobbiamo fare Forza che ce la dobbiamo fare Oh 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 Allora, ripristina salute. Questa mi sembra molto onesta come roba. Forza, forza! Come è buttibile? Non so come si è buttibile. Grazie per il follo, Giulio! Torarans! Mentality, mentality! Un saluto a tutti i vostri amici. Let's go, let's go! Andiamo, 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 andiamo. Piazza piacevole, vai, subito, let's go. Ciao, Andrax! Ciao, Ale! Come è buttibile? Non so come si è buttibile. Grande, Andra. Tanti auguri al tuo amico Joe! No! Ci dobbiamo concentrare, gà! Ci dobbiamo un sacco concentrare, che va, l'edizione è stata a 200.000 persone. Non ci credo, regà. Oh, aiuto, Bruni! Attento, attento! No, Bruni! Devi guardarti ovunque, però! Senti, Bruni, io la saluto, Bruni. Le arrancate con lei non ti bottono pa'. Non ti bottono pare. Chi mi caccia nei commenti? Che ne so, ma no, dipende di chi scrivi, te potino. Bello, Bruni. Annaggia, mannaggia. Bello, Bruni. Oh, oggi esce un nuovo episodio di Spider-Man, Manuel Occhi. Manuel Occhi. Esce un nuovo episodio di Spider-Man oggi, eh. Oh, alla prossima, Bruni. Mi raccomando, un abbraccione. No, perché i poveri Bruni? Vabbè, Bruni me l'ha detto che non fa le arrancate zero costruzioni. Dai, mi sembrava... All'inizio ho detto proviamo, però... Se vede che non è confident. Un saluto, ragazzi, della... Gikarpi? Un saluto ai tuoi amici, Batman, Nesgoski. Ah, è probabilmente una squadra di calcio. Let's go, vinciti il campionato, mi raccomando, regà. No, Schaunsh. Schaunsh. Come ti posso chiamare? Schaunsh. Schaunsh, come va, Schaunsh? Ah, Bruni lo conosco da un sacco. Non se la prende, non se la prende. Squadra di calcio, let's go, mi raccomando, tutti i gol in rovesciata. Ma arriva, tu mangi le fette biscottate? Rissembone? No, le fette biscottate non le mangio, in realtà. Salve, salve, caro, salve, salve. Con permesso, con permesso. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Tutto tu. Cavolo, il lit, regà, precisamente, qua mi scliccato, precisamente stiamo a 16%, eh. Il rischio dei galà è bello vistoso, è palpabile, è palpabile. Molto palpabile, eh. Dobbiamo stare attenti, eh, attentissimi, eh. Molto attenti, molto. Mi parte la Coppa Italia. Ma che mi frega, manco c'è stata la Roma. Le pottino. Non mi frega niente. Sono state spedite oggi le ova, mannaggia. Come è pottibile? Eh, eh, come è pottibile, mannaggia, come è pottibile. Forza, ragazzi. Stava meglio il build? Sono d'accordo. Quello sì, quello sì, quello sì. Ma Bruni ha tutte le ragioni del mondo. E quello che spiegava Bruni è che io con le build, lui lo sa, non so capace, capisci? L'unica cosa è migliorare nelle zero build. Francesco, io cerco di far il possibile. Punto schiamativo Discord su Twitch, vi presentate e magari ne butto dentro qualcuno. Adesso sto facendo qualche ranchettina da solo. Prima ho giocato con voi, poi magari ci sarà un modo e rigiochiamo. Zedu, buonasera, buonasera. Buonasera, ragazzuali. Tutto bene, tutto bene. Mo sto a provare a fare la prima singolo da sola. Cioè, da solo singolo costruzione. Cioè, zero costruzioni in ranked, però. Vediamo che succede, vediamo cosa succede. Non vi prometto nulla, eh. Non vi prometto nulla, ragazzi. Beh, ci proviamo. Proviamo un attimino a reglare delle grandissime, incredibili emozioni. Si spera. Si spera, si spera. Faccio intanto qualche crazy, mi faccio intanto qualche zero build. Con le... E le ranked, voglio mettere un po' di pepe alla live, che se stiamo affievoli, capito? Giusto per quello. Se stiamo un pochino a... Siamo un attimino scadendo. Ciao, Lelle, bentrovato. Anche ranked mi ha dato pasto. Ma in realtà io vorrei... Non voglio più essere un tuo pasto. Voglio diventare un cagnasco. Un grande cagnasco. Comunque, buonasera, Riven. Riven, buonasera. Domani la full gas a scuola. Mamma mia. Ehi, 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 ehi. Ciao, Brown. Grazie mille per il follow. Come è pottibile? Non so come sia pottibile. Tutto bene, Matteo. Tutto bene, tutto bene. Sto cercando di capire un attimino TikTok perché... Come dire... Non mi spinge più le live. Non so se devo diminuire la qualità. Non mi spinge più le live. TikTok. Magari... Regà, mo' torno. Mi diminuisco un pochino la live di TikTok. Che mi sa non le spinge più. Arrivo subito. Torno subito. Non va più la live di TikTok. Bitretto video. Proviamo a mettere a... A 4.000... Che ne so, a 5.000. Magari renderla un pochino più leggera... Potrebbe... Potrebbe aiutare, no? Proviamo a mettere a 5.000. Mi dispiace perché... Poi, lo sai che mi è crashata prima? E ogni volta che mi crasha... Ne risente, ok? Ne risente tanto. Ne risente tantissimo. Aveva diminuito un po' la qualità. Buongiorno Ice, buongiorno. E sapete qual è il discorso? Che se TikTok non va bene, non va bene neppure Twitch. Questo è... La cosa negativa delle... Dell'essere un piccolo creator. Ti devi affidare ai grandi social. Ah, buo, Shonshon. Non lo so proprio. Questa partita... Sento che la vinci. Let's go. No, Twitch è top, Crazy. Però non c'ha discorrabili. Questo è. Questo è il problema. No, sto bomba non mi piace. Sì, 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 sì. Non c'è niente da fa' la vita. Una vita da autobastro Non ce la meritiamo Una vita da autobastro Che non ci meritiamo Dai Dai Dalla roba qua in mezzo Una vita Da autobastro Che non ci meritiamo Ma che ne so, stanno 200 persone, raga Ciao, Con Ma qua E come fa? Se io esco da... Si esco da qua? Ma dai! Ma non è possibile! Ma la mia sfiga! Come è possibile? Non so come si è possibile Ah, tizio, io non... Cioè, veramente non ho parole Faccio il terzo incomodo quando... Ma io sono sempre il secondo incomodo E quello è il problema Dai, questo l'avevo fatto, raga Arrivato questo si è preso du kill, credo O forse l'hanno fatto a catena L'unico che non si è preso niente So io L'unico che non si è preso niente Chi è? So io! So io! È una paralisi facciale, Antonino Comunque ben trovato Buongiorno, buongiorno, Antonino Paralisi facciale, purtroppo Che mi è presa dalla nascita E... Eccoci qui, eccoci qua La cosa carina è che ci ho fatto anche il logo Ormai non è più un difetto Cioè, non lo considero più un difetto A parte di me Cioè, Darius Buonasera, buonasera Io ho messo gli alert, raga Ho dovuto far ripartire la live Perché... Mi si blocca Mi si blocca E mi penalizza le live E... Grazie, Darius, per il follow E... Ho quindi da... Da 6.400 bitrate L'ho messa a 5.000 bitrate Si vedrà un pochino peggio Però spero che regga Spero che reggerà Lo speriamo tutti E... Fracico Ben ritrovato, ben ritrovato E speriamo bene Ma come è puttibile, maestro? Non so come sia puttibile Come puttibile Ciao Werner Puttibile Non so come sia puttibile Cosimo, grazie per la condivisione E per il follow Eh, hai ragione, hai ragione Per quello streamo il pomeriggio Così la mattina esco tutto il giorno Quando poi alle 17 Visco la live all'incirca Riesco tutto il giorno C'hai ragione C'hai ragione E cuore verde Hai ragione Daniele, grazie mille per il follow Benvenuto Ciao Leo Benvenuto pure a te Com'è puttibile? Non so come sia puttibile Ciao Matt Ciao Tia Non so come sia puttibile Ma è puttibile Non so come sia puttibile Ewe è rientrato Dice Ma questo sta sempre a ricominciare le live Ewe ho abbassato la qualità Quindi ora non scriverà più nessuno Oh la live si vede benissimo Marinocchi La live è incredibile No, non si vede più Non si vede più così bene Ah, forse è meglio così Forse è meglio così Eh sì Sì è così Ma perché prima sta a 6400 Non ho capito Ciao Leskowski Vedi, ora 4000 5000 L'importante è che non Si blocca Com'è puttibile? Ciao Matt Vedi, vedi? Così non si blocca Ah, ha trovato i settaggi migliori Ah, che bellezza Molto bene Molto bene Oh, quanto ci metta a trovare sta partita? Ah, l'ha trovata Ho appena detto Quanto ci metta a trovare sta partita L'ha trovata Mamma mia Giorgio Mamma mia Giorgio Oh, marinoschi in serie Domani, come mai? Proprio domani Come mai Proprio domani Proprio domani Proprio domani Proprio domani La rega La rega Sì Interrompo la live di Tik Tok Se volete Vi aspetto su Twitch Leskowski I numeri ormai non permettono più la live su Tik Tok Ciao ragazzi Vi aspetto su Twitch Bas Chiuso Bas Bas Abbiamo chiuso Tik Tok E' un elemento di disturbo Tik Tok Quando non performa Purtroppo Sì E' un elemento di disturbo Purtroppo si Oh, Matti Che dici, Matti? Let's go Marinoschi Vedi che è tornato E' tanto E' il Chrisi fa regali Ma chi è nato Chrisi? Fammi senti che dice Oh, dai Ma quello era già sceso Marinoschi Vedi che è tornato Guarda Ali Grazie mille per l'abbonamento col Prime Ah, sì Ma io lo utilizzo di più Lì Per un discorso Moby di Arrivare a più persone Però ho visto che ultimamente Le cose non stanno più andando bene Lassopra Comunque Chrisi A chi è arrivato l'abbonamento? Grazie mille intanto pure a Dali Per l'abbonamento col Prime Li portavo tutti qua Grande, amiche Eh, purtroppo non funziona più il mio TikTok Io non ho mai Dovete sapere Che alcuni stream Ok, oh Purarti nell'acqua finché Ha il domino nel Oh Questo hanno messo Vale solo per la vita però Sì, sì, sì La roba di Corra Vero? È per acquisire più pubblico Però non mi entra più nessuno Moby Nel senso La gente entra e poi esce E di conseguenza Non so quanto Eh, non lo so È nuovo Non so quanto convenga È più un elemento di disturbo Che altro C'era una cesta Oh Puoi sparare dentro l'acqua, sì E mili, mili Se mili Ti fa mirare meglio Buono Basta che stai dentro l'acqua Interessante Interessante Questo potere Quanto ho capito La gritta in TikTok Cambia a velocità La luce Dipende da chi Gira Eh no, no Appunto, appunto Penso che gli darò Meno importanza Cioè non come prima So Perché È un elemento di disturbo Che ti demoralizzi Quando magari Si blocca la live Eccetera Devi andare a vederla Se mi saluti Mi scrivo su YouTube Ciao Teo Ma comunque YouTube YouTube In teoria Dovrebbe andare bene Ah no E hanno tolto il fondo Si non paga più nulla Anzi adesso Dovrebbero spinge Che dici Io almeno Tanto non lo spendo Nei Invece prima Boh Che ne so Tanto gli altri giochi Su TikTok Non funzionano Raga Tipo io Quando ho provato a portare Overwatch Su TikTok Non funziona Funziona soltanto Fortnite O Brawl Stars Questi qua Dove porti Overwatch O porti altra roba Su Su TikTok Non funziona Raga Almeno così Magari le persone Sono invogliate A venire qua Crazy Magari L'altra faccia Della medaglia È questa Magari la gente Dice Ma Marinocchi Che fine ha fatto Dice Ma è in live su Twitch E come vanno su TikTok Magari viene qua Teo Grazie per il follow Pure su YouTube Grazie mille Teo Scusami Ma com'è possibile Però il discorso Che facevi te Qua c'è Marinocchi Non fa Eh capito Lì io quando Mi spostavo Su Overwatch Il nulla cosmico No comunque Ha cambiato algoritmo Su TikTok Perché ho notato Che Mi sta spingendo Un pochino De meno Vabbè ma si sapeva Ho fatto bene A diversificare Sono contento Di questa roba Ho fatto benissimo A diversificare Com'è possibile Mephi Com'è possibile No che dici Mephi Eccoci qui Eccoci No stavo parlando Che ragazzo Dicendo che TikTok Stranamente Non mi spinge più E ho saputo Che alcuni creator Ci hanno Conoscenze Con Conoscenze Con tipo Manager TikTok Italia Io non ce l'ho Devo arrivare A loro Perché mi sa Che Che l'account Non viene più spinto Come prima Ma non per colpa mia E Questa è Le cose periodiche Che cambiano L'ambiente sta spingendo Qualcun altro Rispetto a me Ad altri Che Sopra Ma dove Qui Ma dove Era Dove Diami Nera Niente Mi sto scaldando Devo togliermi La Devo Devo liberarmi Devo liberarmi Fuori dalla finestra Assurdo A me Fima Invece L'altro Devi cambiare L'acqua No 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 Mi sto liberando Un attimo No no Mamma mia Mefi L'altro giorno Mi sono rimasto De melmo Sono nato Su facebook Ho detto Vabbè Fammi vedi Facebook Con lo mio Vabbè Compleanno Di Vabbè Vabbè I compleanni Passati Ho visto Mefi Ho detto Ma come Diami Nè Potibile Perché Non Non c'avevo più Le notifiche Push Attivate Ehi Sai Quando te ria Il messaggio Tipo alle 8 Del mattino Oggi Il compleanno De Tizio Caio Non avevo più Le notifiche Push Attivate Perché Ormai Utilizzo Soltanto La pagina Che Quella Marinocchi E Sono rimasto Tra l'altro La pagina Marinocchi Creatore Di reel Costante Attenzione Hanno messo Gli status Su Hanno messo Gli status Su facebook Creatore Di reel Costante Marinocchi Interessante Interessante Ogni tanto Ci danno qualcosa Giuseppe Simone Grande Giuseppe Simone Grande Giuseppe Simone Se ti piace Rocket League O quel gioco Forse te lo spingi Si Moby Il discorso Qual è E che Lì sopra Funziona Non tanto Il creator Quanto Quello Che porti Quindi Sai che c'è Ogni tanto Farò delle breve Live Su tiktok Dove Dico alla gente Quando ci sono Tante persone Ragazzi Su twitch Se volete Passate di là Arrivederci Devo scrivere A tiktok Italia Mi devo ricordare Scrivere a tiktok Italia Devo sapere Se c'è qualcuno Che mi può dare Una mano Con robe Perché non è possibile Correva in live Alle 2 È la miglior scelta Perché se no Ogni volta Devo stare attento Lì ai commenti Mi piace I cosi No mefi Perché C'è qualcosa Che non va La live Viene spinta Inizialmente Poi la gente Abbandona Alcune volte La live Si interrompe Sono costretto A farla ripartire Tra l'altro Prima abbassate I bitrate Però facendola ripartire Tiktok È come se L'ascurasse Non lo so Comunque Non Per come sta Andà A livello di numeri Su tiktok Non c'è più Il fondo creator Non vale più la pena Dargli il 100% C'è Sì Pubblicarci Eccetera Ma non la priorità Priorità assoluta Priorità assoluta Che darò Twitch e Youtube Lo dico subito Che sono immortali E a Instagram Guarda Di Instagram pure Stanno molto bene Cioè alla fine Di tutte le piattaforme Tiktok E quella calata Di più Instagram Stanno bene Youtube Stanno bene Twitch Stanno bene Potrebbe migliorare Stanno bene Facebook Vabbè Sta là Ogni tanto Escono cose Però insomma Facebook Facebook Ultimamente Stanno arriva più Mi piace Ma non so perché Perché probabilmente Mi hanno dato quel titolo La Creatore dei reel E quindi Stanno Stanno arriva un sacco De gente I reel Stanno spargi A destra A sinistra Alle 15 6 16 30 No è un pochetto Che va avanti Sta storia Mephi Almeno un mesetto Che va avanti Sta storia Mephi Non è Non è una cosa Dei giorni È almeno un mesetto Però sai qual è il discorso Finché una settimana Dice una settimana E due su due Tre su tre Alla quarta Cioè al mese E a quel punto Due domande Te le fai No? Come giusto che sia Perché i contenuti Sono gli stessi Prima andavano bene Su Youtube Continuano ad andare bene Su Instagram Continuano ad andare bene È proprio TikTok Un problema Poi sì Per carità Stanno le ragioni Che dici te Magari Tutti i creator top C'hanno L'aggancio Italiano Capito? Oh dai Ma quanti sono? Cioè comunque Fermate Le classificate Sono un macello A fine solo E levate Gratis Ma chi è? Come va? Alve Non è possibile Raga Non è possibile Ma dai Perché loro corrono tantissimo Io no E anche te Stanno diventando Sempre più complicate Secondo me Non te devi preoccupare A Mary In occhi Non è mai una cosa stabile Sarà un sali Scendi Continuo No 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 Quello è vero Quello è vero Quello è un sali Scendi Continuo Vabbè io ne parlo così A Mephi Perché Mephi Mi segue Dall'inizio Cioè nel senso Lo conosco Dall'inizio Su queste cose Ne sta tantissimo Mi segue dall'inizio Perché quando Mi sono lanciato Nello streaming Mi ha aiutato Lui a lanciarmi Mi ha preso E ha detto Mary lanciate Come lanciate Lanciate Vai Vula Tipo come i piccioni Svolazzano Oh House Fortnet Ho visto Che stai a fare un bel lavoro House Col buon Gialluage Complimenti Stai a fare un bel lavoro Mi fa un sacco piacere Ogni tanto Passo dal buon Gialluage Mi vedo uno spicchio De live Bravo a intrattenere Complimenti House Complimenti Complimenti Vichissimi dal buon Marinocchi Dal buon Marinocchi Lo so Lo so Dicevo giusto A Gialluage Mannaggia Che Onorare un po' di melma Quello Perché prima delle due Non attacco mai Prima delle due Non attacco mai Perché la mattina Mi metto a montare Un pochino i video Poi oltre al fatto Che magari Molta dell'utenza È a scuola E quindi Tendo a non iniziare La mattina Quell'ora lì E Mannaggia Mannaggia Ancora non si riesce Ancora non si riesce Alla fine ci ha visto bene Grande Mefi Mefi me lo ricordo Regà un giorno eravamo Alla Milan E mi fa Marinocchi Secondo me ti dovresti lanciare In quel mondo Io ero un po' Tidobante Dico ma sei sicuro Secondo me sì Secondo me hai la stoffa Secondo me dovresti Proverci Però Vabbè poi pure lui Mi diceva Mi raccomando Di essere costante Io ho molto peccato All'inizio Per molto tempo Sulla costanza Nel senso che Magari Facevo i contenuti Poi mollavo la presa Andavo in live Mollavo la presa Adesso diciamo Che è un bel periodo Che non stacco Troppo Nel senso sì Può capire al giorno In cui stai day off È chiaro Perché siamo umani Però Fondamentalmente Adesso siamo costanti Costanti Cioè Limiti del possibile Che non è che Sei sempre 100% Ci sono altri impegni Eccetera Però Va bene Stiamo andando bene Tanto io avevo detto Che all'inizio Il Lesgoski Era una bolla Ne ero consapevolissimo Però l'importante È tenere L'importante È essere belli Pronti Ci cerca pizza Non credo Non credo Non credo Altrimenti Sarebbero arrivati In 200 A scriverlo Intanto Grazie mille A Blades E a Giallo Twitch Per i follow Per altre consulenze Contattate il privato Il buon Mefi Mi raccomando Mi raccomando E anche di in solo Sono ingiocabili Perché appena fai Di un tipo Eccidi Ti piaga subito Un altro E non ti danno tempo Di curare Dovrebbero mettere Il Siphon Giallo Sono d'accordo con te Comunque Blades Ben trovato Benvenuto Benvenuto Dovrebbero mettere Il Siphon Al Siphon Uh Siphon Uh Siphon Dai un po' Un po' Certo Certo questo qua Non ha nome Garba In un certo senso Più comodo 37 spettatori Così E quello sì Però sai qual è il discorso Che questo qui È un Una roba Che all'inizio Specialmente Conteari Comunque Ben ritrovato All'inizio Devi puntare Un pochino più Sulla Quantità Purtroppo Perché ti dico questo Perché i grossi streamer Ci hanno per dire Le sponsor Ci hanno Tanti altri Metodi Per poter Autosostenersi Invece lo streamer Piccolino C'ha soltanto Un po' Un pochino di pubblicità Gli abbonamenti I bit Ste robe qua Sub regalate Eccetera Quindi la quantità Ti aiuta Perché quando le pubblicità Vengono mandate Semplicemente Più supporto Da parte di twitch Poi magari Ti arrivo allo sponsor E ti dice Ciao Come stai Giusto a posto E tu dici Poi Aspetta un attimo Devo Provare la spatola Questo Niente Vabbè Il ragionamento Insomma È abbastanza Classico No Chiaramente È più possibilità Quando Hai più numeri Tutto qui Però sì È anche vero Che Meglio pochi Ma buoni Nel senso Che riesci Avere una Conversazione È più tranquilla Non te perdi Troppi messaggi E quello E quell'altro E quell'altro Ancora Quindi su quello Sono d'accordissimo Oh Siva Faust Assolutamente Io Ranked Te dico Che Nei zero Costruzioni Specialmente In questa Season Sto Un po' Arrabbiati Aspetto Che Aspetto Che si ferma Un attimo Niente La ferma Ti prego Ma Marinocchi Eccoci qui E ho lasciato il pompa Ma sono sbagliato Siamo presi la kill Stiamo a scappare Ma ora c'è rincore Oh e Aus Fa' una cosa Iscriviti al discord Così ti do pure ruolo Streamer Ti do pure ruolo Streamer Per imboccare Nella sala Dove sto E Nella sezione Presenta Insomma Dammi il tuo nickname Che ti aggiungo io Perché ce l'ho bloccata E mi è un discorso Come dire Che sennò Ricevevo troppe richieste Capito Ero un casino Un vero e proprio casino Ah è scritto Adesso ti aggiungo subito Dopo sto game Sperando che io Non muoia subito Perché sennò Fa perdere troppi Unticini Ah non hanno ancora combattuto Col boss E qua Ma se c'è ancora qualcuno No 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 Che ho? Io sai che faccio Faccio una burlata Oh ti vado apposta E mette un po' De scompiglio Capito Arriva quella Arriva quell'altro Si creerà un macello Mai visto Come faccio le sgoschi Le sgoschi È così che si fa Allora presentati Ok E qual è il tuo nickname house? Così le aggiungo House fn Ma col puntino finale E' tratto aggiungo al volo Eccoci qui A posto A posto Perfetto Guarda puoi entrare già nel canale vocale Quello del discord Quello dove mi trovi Mi trovi là E puoi subito entrare se vuoi E ti ho dato il ruolo Marinovski Vedi che è tornato Cree Corri Grazie mille Grazie mille Cree Grazie mille Cree Non c'è Non c'è Non c'è Cree Non c'è Ma pochi colpi Cioè non ce l'ho proprio Medi Ok Solo colpi pompa Regà Iaia 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 Ai 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 Missio male Missio male Però vediamo Cree Grazie mille ancora per l'avvonamento col Prime Ciao Andre Benvenuto E poi vediamo Cree Quando c'è la possibilità Diciamo che io cerco sempre di ritagliare I momenti in cui giocare Con chi supporta Quindi non si preoccupi Non si preoccupi Marinovski Uh ma fatto sarta Mamma Io che non mi ha mai parlato Aspetta che te bilancio l'audio Mi stavo a sarta Tipa Sembra Sembra ad essere tornato a scuola A quel marino Nel primo banco addormentato Ai primi ore del giorno Oh che dici Benvenuto Tutto bene Grazie per il benvenuto Tutto apposto Tutto bene Tutto bene Ho visto oggi tutto casato Come al solito Eh ma oggi era sonnato Post pasquetta Ero veramente in stand by Però l'ho visto abbastanza carico dai Quello sempre Maggio dai Eh quello son sempre carico io Ah ma tu sarco diciamo Appagio a lui Tu sta Do sta Uh aspetta che devo spadula 1 Ok provo Vada 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 Niente Uh 36 ho fatto Niente ma spadula Oh c'avevo lo spamone Niente lo spamone Regà non si batte Ehi no build Lo spamone è fortissimo Allora aspetta che ti invito Tu che stai fa Vuoi fare pubbliche Granche Che preferisci Granche De no build Va bene Va bene Io sto prende Le pezze oggi Te lo dico Aspetta che ti devo accettare Ma si è importante farci content Allora Ando stai E mi rimanda l'invito Che è scomparso Ah no aspetta Eccolo A posto Ah ma lo sai Che non ho fatto in tempo A prendi i polli Mannaggia No 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 Ci sono adesso nei negozi Vai Ci sta una cura Sì sì vai 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 Aspetta Ci sono ci sono Ah li hanno rimessi Aspetta tu che c'hai Li hanno rimessi Li hanno rimessi oggi Eh c'ho il sergente Drake Il più bello Aspetta Mi spezza Ah ecco il sergente Drake Eh lo sai che è il migliore Il sergente Drake È troppo bello fra Ragazzi mi raccomando Ricordatevi Codice creatore Lizgoski Se volete supportarmi Mi raccomando Lizgoski Ah sergente Drake Abbiamo preso il pollo Abbiamo preso il pollo Bravo Ecco qua Testa skin Andata Testa skin Perché così non ci riconoscono Esatto Ovvero un pollo penarto Dico no No è quel pollo È quell'altro pollo È macello Poi siamo fottuti ragazzi Letteramente fottuti Invece siamo uguali Così Esatto Tu considera una volta Petrollarla Stavo a giocare Con Riccardo No E praticamente Ho fatto Ma senti un po' Ma tu hai presi Non so I pennuti Non so come L'avevo chiamati Eh E lui Sì Sì Lascia Perché non Usirà Anche Non mi ha risposto Mi ha gozzato La domanda Secondo me Dentro Dentro Mi voleva Tipo Di Ma Chi che Chi Mi ha detto Ma che Non usi I polli ranked Ma Ha gozzato Tantino Ho tagliato Sono morto Dalle risate Diamine Ha fatto bene Ha fatto bene Tutto bene Dub Tutto bene Tu come stai Non si preoccupi Tess Ognuno di noi Ha degli impegni Però sempre Un piacere Rivedervi qua Insomma Quando potete passare Purtroppo Ho staccato La live Di tiktok Ultimamente House Tiktok Mi sta un po' Mi sta un po' Penalizzata Sai Frontelive Frontelive Non le spinge Come una volta No No Una questione Di algoritmo Che dice Adesso Spingo Altri Tu Finisci Tu resta lì Ti vengo A riprendere Però Non va manco Bene Così capisci Eh no Ma infatti Ho fatto Sono contentissimo Di aver diversificato Tutto quello Che è successo Su altri social Ma mi bene Difatti tu Non ti devi accontentare Di tiktok Devi spingere ovunque Eh no no Infatti ho spinto Su youtube Twitch Su instagram Meno male E anche su facebook Addirittura Ora tu dimmi uno Che fai cose su facebook I rilei I video su facebook Secondo me C'è nissima Poca gente Eh no Invece no Invece no Invece no In Italia Ha qualcosina Una volta il gaming Era più portato Anche su facebook Sì Perché parecchi streamer Che facevano facebook Ora sono su twitch Capisci Eh sono andati pure su kick Mi sembra Con gli americani Eh sì Kick parecchia gente C'è andata In Italia però Non se ne è filato Nessun Ma perché E in Italia Stiamo diciamo indietro Sulle cose Molto indietro Per dio Eh Do andiamo Piazza piacevole Anche perché Adesso lì 95% Tipo Ma sono matti Non lo so Ho visto Sono pazzi Sono pazzi Allora Andiamo lì Purtroppo qua Ci sarà un sacco De gente Sulla carta Che potrebbe scendere Ehi Con i nostri Pennuti Andremo a fare Del content Eccoci qua Eccoci qui Eccoci qua Pietrone Buon pomeriggio Ma tu stai live Adesso No no Io no Io no Sera Ma la mattina Invece stream Quando stai goggiando Eh ma Eh sì Ma poca roba Faccio io Sono Sono più abituati Alla sera Con me Capito Eh beh C'è sta Ognuno C'è Gli orari Suoi Eh beh Ognuno C'è Gli orari Suoi Adesso Che arrivano Le belle giornate Voglio anche io Portarlo anche Magari un po' Più alla mattina Adesso che arriva Anche l'estate Capito C'è diverso Magari la gente La sera Magari È un po' Giusto Giusto Sì Fai bene a pensarci Così Eh sì Bravo Belle giornate Stanno a rio Ormai Andiamo a aprile Tempo vola Pure troppo Aspetta che Ti raggiungo Se riesco Ti sei Sì Sì Aspetta che ho visto Una cassa Nel frattempo A me Sto penuto Devi Vieni voglia Di giocare Forte No è troppo Bello il penuto Con il caschetto Militare Rega A me Mi spezza Vederlo A me pure Cioè Tu potresti Puoi ammazzare Un penuto Che ti puscia Io non lo farei mai Anche se Ne ho spatolati Però ho avuto Sempre la Ho avuto Sempre la cosa Di no Vabbè Lasciamolo passare Lasciamolo continuare Però poi ho detto No Non possiamo Non possiamo Però sai Quell'esitazione iniziale Che ti può mettere in difficoltà In grossa difficoltà Esatto Ma c'è un muro invisibile Un muro invisibile Cora Eh no L'ho tolto io C'era un muro invisibile Assurdo Ma shield In sto gioco esiste ancora Lo shield Eccolo qua Eh alcune volte Io solo tolgo No Non lo trovi No Non lo trovo Oh a volte C'è L'ho lasciata proprio No 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 L'ho lasciata proprio Io l'ho lasciata Ah no Una parte di testa Che Davvero Che non esiste Per far via che S dovevano prendervi Sul becco Il cappello Non lo prendono Dai Non so come funziona Oh c'è gente da me Stanno sotto Eh non lo so Li sento vicino a me Vedo se è uno qua sotto Mezza la strada Se vuoi te lo butto giù One shot Quello sotto No ci credo Quello grigio One shot Treviscott No Se sono due Sono due Sono due Sbagliato Sbagliato Mi ha colpa mia Colpa mia Tranquillo Tranquillo No è sbagliato Io perché stavo seguendo Il Treviscott Dove quando sono arrivato Tava già fatta Capito Mannaggia Vabbè Cilcili su un problema Picchiadi No Quello era L'ho lasciato One shot A quello grigio Vedi Il treviso Sceso Non ha capito Davvero Erano due Due one Se chi lavo il Trevis Magari la clacciavo pure Arca di serie La clacciavi si No sta cosa Del Quindi pay to win Minchia c'è l'hit Eh ma Pietro Se continuo così Si deranca oggi Oggi si deranca Danielo Grazie mille per il follow E benvenuto Ma no tanto azzecchi Il game la azzecchi Il game la azzecchi sempre Dici il game E vinci Prendi un bel 40 Eh si bravo Hai capito E ti salva tutto E ti salva Tutto in calcio d'ango Sta Quello Basta che Che te la vinci Dipende pure qua Con un po' di kill Insomma poi Stanno tutti i calcoli Tra rianimazioni Quello e quell'altro Stanno 200 mila Ma io non ho ancora capito Come funziona No il punteggio qua Sono sincero So che se prendi la bandiera Ti da un po' di più È vero Ma sai cosa Mi hanno detto Che non è vero Aus Vanno a capire Boh Non lo so Perché io ti dico Stamattina Stamattina abbiamo fatto Runkhead normali Con Predage Gian eccetera Ok Tipo avevamo fatto 15 kill Però non ci ha dato nulla Ma è stato tipo 3% Ma chissà di davvero Sì Mamma mia Ma aspetta Cioè tu che grado sei Che non ho visto Io sono diamante 3 E Predage che Ah tu build Stai a parlare Ok Sì io in build Io qua adesso Zero build Ho fatto un game solo È iniziato adesso Ora ho iniziato Sì sì Ti sto portando Sulla cattiva strada Perfetto Ma cì La me non mi interessa Imponente divertirsi Ah quello sì È la prima cosa Distanza percorsa sul treno Considera ancora il treno Eh attenzione Invece Emo tra qualche giorno Dovrei portare Brawl Stars Vorrei portarlo Eh ma sai che Vorrei portarlo pure io Perché È bello Ho visto che abbastanza chill Tranquillo Caruccio Esatto E poi non ci sono tempi morti In che senso Nel senso che trova le partite Velocissimamente Cioè Non tempi attesa Veramente A zero proprio Perché sta di umore andando Capito Quindi c'è molta gente Che lo porta Ci gioca Ma tantissimo Secondo me Avevo tanto C'è Lollo Lagustre che non dorme più Ho visto No no È sempre Lollo lagustre E butti su tiktok Ma che sta a fare Ciao ragazzi Eccomi qua Lo tipo cornetto in bocca Oggi arriviamo a campione Io ho 15 cornetto Cacchio Il cornetto La nutella L'edizione Ti sporchi tutto Forte Forte Cioè Guarda Lollo Per aver abbandonato Penso Momentaneamente Minecraft Vuol dire Che proprio Lo sta facendo divertire Un sacco Brawl Stars Considerando che lui Ci giocava già anni fa Ogli I cogli che si diverte Però fa bene A cavalcare Londra Sì Però La fa con Una Ancora più voglia Capito Tipo fortene Adesso Stava via Un momento Un po' È normale Di calo Ecco Diciamo È normale Aspetta che cerco Di stavone Vicino a te Ok Io soltanto Un po' Aspetta Non ha capito E lo giuro No davvero Ho lanciato male Conviene Pucciarlo No no Pucciarlo 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 Ti puscio il compagno Faccio un attimo Una Puzza Qua Ma qua C'abbiamo Una macchina Eventualmente Per muovere Muoverci Alla arrivo Da te Bende prese E io gioco Troppo Gioco Un misto Tra Topastro E aggressive Sì Un pompa Dai su Serverebbe un pompa Pensi un pompa Sarei Blocchi OP Io altri Mi sa che non ne ho trovati Ho trovato soltanto Quello nuovo Blu Che non è male Buono ci sta L'unico problema Di quel pompa nuovo A tre colpi E che a ricaricarlo Ci metti una vita Sì infatti la cosa ideale Sì infatti la cosa ideale Sai qual è Quella di trovare Una stazione Per migliorare l'arma Per modificare gli accessori E aumentare il caricatore Gente Bravo C'è una Ok c'ho un cable Non so se sono sotto sopra Non li ho visti Ho sparato io per sbaglio Perché Sono sopra mi sa Non guarda me Uno da me A terra Do me Ok Un altro È arrivato E sto scappando sotto Teto Eh Non sono riuscito a scappare È uno Lì Lì Sono due Lì 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 Era one shot l'altro Eh sì Ah diamine Io sono andato Sul primo che ho visto Vabbè andate Ma non avevamo Rotation Perché avevo un impulso Me ne livavo Sono sincero Niente Non riesco a livare Vedi che sfiga Abbiamo busciato a questi qua Mouinton Fai Arrivate subito L'arte Arrivano sempre Come i funghi Gli altri Ma cos'è sta schedina Che hai preso tu Cos'è sta roba È quella nuova Che praticamente Di corra Adesso l'hanno fatto Vedere nel trailer Praticamente ti permette Di attaccare Con l'acqua E se tipo Stai dentro l'acqua Ti ricarica la vita Solo la vita però È tipo Stai in one shot Ti butti dentro l'acqua Ti ricarica la vita Sì sì Ti ricarica È come se fosse La rigenerazione dell'acqua E però Lo shield Da quello che ho visto io Non te lo ricarica E poi lanci tipo L'acqua addosso Eh beh Non so quanto Fa di danno Perché ancora Non l'ho usata Su L'avevo solo raccolta Adesso Dovete trovare i bunkatili Prima di entrare in Ah dovete Ma io non c'avevo i bunkatili Però stavamo già dentro la bolla Capito Ice Non so quanto Fosse conveniente In quel momento usarla Però c'hai ragione Io poi lo sai Un'altra cosa House Che sbaglio Eh Che utilizzo poco Gli item Cioè nel senso Se io per dire C'ho le granate O i bunkatili O le bolle Le utilizzo poco Eh anche io Perché io non sono abituato A fare no build Capisci Eh sì Però il no build Ho capito Che è fondamentale Ste robe qua Eh sì Perché stai tipo Con una scarpa E una ciavatta Nel senso che Una volta che te pushano Eh non puoi ripararti Con le build Capisci Ti ripara con quelle Bravo Bravo Però tipo adesso Ci eravamo mossi bene Peccato Manca un secondo Rega per poter Un attimino Riorganizzarsi Niente Io sono dovuto scappare Perché mi è imboccato Questo Ma infatti tu hai fatto Più che bene Di fatto Ti ho di fatto Ho detto Liva Vattene via Proprio Quando mi hai detto Liva C'avevo davanti a quello Io pensavo Tu quando hai detto One shot Io ho ragionato Magari è solo uno Invece poi Tu hai detto No sono due Liva Io no Tornavo con l'assalto Hai sbloccato Corra No io ho ancora No Ma sa Rumi Automatico il potere Decorra No credo che tu debba E non lo so E dobbiamo vedere Un attimino Non lo so Dai Ok Andate la zicchiamo Ma il game Speramo Se il buongiorno Si vede dal mattino Ho qualche dubbio Però vabbè ci sta Non abbiamo mai giocato assieme E poi ultimamente So gioca male Io in generale Quindi Un periodo E così che va E così che va E così che va E mattina Tant'è neanche Sono un pro player Quindi va bene così Vabbè Sì Importante Se diverti Una partita La partita riva Forza di gioca Adesso a sinistra Dimmi tu E andiamo qua a sinistra E andiamo precisamente qua Ok 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 non so Sembra più riparata Come so Sembra Ho trovato pure Trovato pure uno Spammone Non male C'è uno da me Lo sento Ma questi hanno già trovato pompa Vuoi dare 100% Aspetta che uso queste Ah quello là Bravo Un po' di scudo in più Un po' un pazza qua Però c'è l'ho C'è l'ho verde Quello Il tattico Ok Troviamo un po' dei colpi Troviamo un po' dei colpi Vediamo un pochino Ciao Kri Un po' di champagne Ah ce l'hai? Sì sì Ho trovato lo champagne ora Molto bene Buono buono Oh Eccolo Reclone Reclone Che dici Ray? Dici qua Renderei Buona pacqua Vabbè Anche se sì Siamo già dati auguri Però Di nuovo buona pacqua Pacqua Oh Io sto preso Il pollacchiotto Ho preso I polli Un pollo Siamo due polli Due polli uguali Due pollacchiotti Bello 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 Ci sta Motivo più per gli avversari Per mangiarci in lobby Per spatolarci Dove da me qua? Ok arrivo Arrivo Ma tu sta sopra sotto Sto cercando Da fuori C'è uno Per lo meno Guarda non capisco dove sta Questa Questa che stava Questa Eh non lo so Che può essere più di uno Capito boh Due polli perduti Quest'anno ci sarà Games Week Ah è a voglia Games Week Può essere che ci sarò L'anno prossimo Cioè quest'anno Ci saranno tutti Ma io già ci sono stato Poi tanto ci sarà pure Rai collone Probabilmente Rai collone Alla Games Week I rai I rai I rai Dove stanno Sti topastri Ma la camper Giuro che com'è Schi ti faccio Prendere un infarto Questi sono Sicuramente Sono originari Di topolandia Sicuramente Topolandia Sicuro qua Questi due piccioni Mi fanno morire Quando stanno Eh sono I piccioni Sono bellissimi Infatti Appena mi hai detto Sono tornati Sono una dubbio La pialla Non avevo visto Lo shop Oh bella Giallù Vi ritrovate Giallù Mi sono beccato Con avosso Mi sono beccato Ancora con te Come è possibile Ma non capisco Dove sono questi E occhio Che stanno Imboscati Ah lo so Che andrai sul tetto Guarda Vede proprio Eh è problema Salirci Boh O hanno livato O stanno nascosti Ma sono tutti Arrattati Sti due Ma sicuro Sono arrattati Sicuro Sono arrattatissimi Questi Ma io che puoi Dicare Oh bello Oh ci stai Tu game Allora in bocca Se troviamo un quarto È meglio Perché ci facciamo Le ranked Sono anche E pubblicano Bene Giallù Come preferisci Niente Niente qua Aspetta 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 Ok 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 ci vuoi Questi Ci vanno Nel giro De pepe Uno viene davanti Uno è dietro E c'è spatola Io guardo davanti Guardo qua Guarda dietro Quanto qua Siamo scendendo Per forza Si vanno prendere Dall'ignoranza Guarda Eccoli Se stanno Può essere Stanno dalla Parte mia Eccoli 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 Uno qua fuori Se ne è andato Verso la piscina Tipo verso Del là Come cazzo Giocano questi Non che li capisco E uno Secondo me È rattato L'altro se ne è andato E uno è rattato Perché uno L'ho visto Può mandarsene L'altro no Basta che Siamo uniti Bravo Oh hanno li vado proprio Uno vi sta andando Verso del là No no Eccoli Eccoli Di qua Sono tutti qua Ma veramente Gocano così Ma porca troia Caccia al topo Questa è caccia al topastro È una nuova modalità Regà Che hanno messo Oh Occhio col ciclo Hai visto? Sì sì Maggiano la mira Un po' così Così Tu c'hai impulso? Non so nulla Aspetta Se te lascio due impulso Occhio a quello corcecco Gli diamo due pompate Ma tu ce l'hai l'impulso? Eh te l'ho lasciato i due E c'hanno due io Allora andiamo dai E facciamo un attimino Vai venga venga Anduma Amma Eccolo Ho fatto un macello Ho i rincori De nuovo Andavo verso Quanto impulso C'ha questo Vieni qua Vieni qua Sali Sali Magina Sali Arriva 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 Per Dio Vada 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 Guardate Che fa Questo Mamma mia Guarda come si scappa C'ha un amico suo C'ha un amico suo Andiamo sull'amico suo Che sta sul tetto Qua Cacato 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 Pusciamolo solo l'amico Eccolo Non c'è Vabbè ho capito C'ha una ascorta Andiamo da Dall'amico suo Oh cacchio Quanto sta l'amico suo? Un bricopo a lui Ah sai cambiamo macchina Ah vos è stata me uno Eh Ok non farti fare Non farti fare Ma è un macello sta lobby Mi sai che sono due team addirittura Stiamo a capi niente Ma questi cosa sono Ma veramente giocano così queste Non sape si Prendo una taglia La prende la prende Briefing attivo I nostri pool incudono terrore Guarda qualcuno ha provato ad aiutare Questo Vieni con me I piccioni Passi 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 Tu stai Oh ma mia Arriva arrivata Ma saranno sotto Eh non lo so Io ho visto passi Ci ho sentito passi Ho visto Eh ma sono sotto qua Sotto qua Sotto il cavo Guardi stanno salendo Sono salito qua sopra Oh ma mia Oh ma mia Passaglia sta scala De merma Bravo un altro Amico su Guardate Non c'è segreto Un attimo Un attimo Un attimo Vai 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 prendiamoci sta chi lo aspettiamo un attimo c'è un kit medico quando sto io non so però c'è un posto posto per te arrivo da te dato l'hai confermato quello no 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 perché se ne abbiamo rimbalzato via con l'impulso no no quello per terra io ho 24 impulso te ne servono due e no vabbè no no tranquillo tranquillo c'è le bolle quelle la 4 bull e 3 kit mettiamo così portiamo così potete lo splash a te fatele o macchina lanciato le no loro ci è mancato poco ii ehi oddiamo mi aspetta stanno tempo di blocco metto più dietro stanno arrivando indietro questi facciamo salire qua facciano avere sotto macchine stanno arrivando è tutto sto macello per una kill rendi conto ma cassissimo ma perché quelli hanno scappati non so quanto è ma sotto ci sono le casse non deve vedere sotto invece come devo sbrigare a farmi la scheda grafica house prova gtrp pure tra questa cosa che mi preme per cambiare il gioco ci sta no per cambiare gioco per variare un pochino magari costruisce una storia esatto bravo c'è non vuoi abbandonare fortnite insomma che i ragazzoni ogni volta che parlo gtrp stanno tipo su chi la la come di noi puttivi e non devi abbandonare i fatti forte ti commento anche a geluca però è bello alternare capito è giusto che sia così ma mi da un bel pompa d'oro va no abbiamo rotto malamente ok io ti quello impulso vuoi prendi prendite perché c'ho i quattro bolle quelle o quelli bucati di dietro qualcuno sul tetto sul tetto era lì era lì alla se vuoi alla io vado sotto tu utilizzare impulso ma sono in due fra odiano e non ho visto uno solo abbiamo questa lo stesso lo stesso mi devi dire quale c'è io non l'ho visto però sono in due orca da dietro però non ci credo di valipari valipari ti lascio l'impulso riesce a venire sotto me sono questi ci sono questo ti sono pushando ti lascio l'impulso a pigliatele e non c'è proprio tempo sì ma no ma adesso moltissimo impulso ma ora questo è posto di fai però veramente posso dirti che veramente è una merda veramente sono in crea o non spara nessuno frano spara nessuno aspettano solo per un altro team quello che affaitato si si era un altro sottornato indietro che schifo mio dio allora gianluci dovrebbe stare eccolo qua e già lui su discord scrivimi una roba da qualche paese se già luca sta nel disco credo penso se c'è stampo aspetta vediamo un po disco orda marie buonasera marino schi chiede anche la chat da us secondo lei zodiac ma non lo so molte cose ma non le sappiamo cianciano le zodiac che io so che una marca di le schede grafiche divo c'è non una marca che ho detto vuoi dire tipo una categoria ecco una categoria non lo sappiamo non lo sappiamo già luca non so se sul discord così do i poteri per in bocca no non è sul discord già lui riesce ad entrare sul discord a mai a tre polli semo mamma mia e piccioni c'è dei sitri piccioni bollacchiosi con una fama porca in serie il gilio è il gilio è il gilio è il gilio è il gilio di emilie a eccolo dove entro è un collato il coso chat forse non sta in cia perché sta a giocare aspetta aspetta gli do il link si è unito vediamo un pochino non ancora ecco la sala attesa giallo eccolo la aspetta gli do i poteri da da streamer allora questo e questo giallo considera che poi puoi entrare da solo diciamo perché non ce l'hai eccolo qua ci siamo ci siamo alve giallo o giallo da oggi in poi vuoi entra automaticamente in questo canale che ho dato il potere e no chiaramente noi e non li do a tutti sennò la gente in bocca all'improvviso e non ce l'hai te ce l'ha o se ce l'hanno altri insomma ma giuste giuste va bene quindi ci ci presentiamo così sì sì i drippoli a chiotti peccato che non c'è il quarto altrimenti saremo stata una roba immagina la gente o ho craccato il pollo e gli altri quale e gli escono due altri due ci proviamo polli su polli proviamo dai un paio di game e rifaccia che tanto sono adesso va bene va bene allora come sta amari tutto bene 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 pasqua andava bene importante che è andata bene a tutti quanti se è magnato se è fatto siamo divertiti diciamo che mi sono più divertito che ho mangiato io però io ho mangiato troppo le 5 va bene nel senso se tenuto in forma giallo bravo bravo ci sta la lista ragazzi lascia stare che io stanotte alle 5 non riusciva a digerire penso quanto mangiato mamma mia se si è mangiato le porcherie nel senso se sei arrivato proprio ai ai bravo limite bravo noi tendono a riacci sono veramente digerisco tre giorni dopo ormai una volta se poteva fa ormai non più ma si può fare l'età che avanza un casino capisce si capisco purtroppo capisco troppo bene ai 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 capisco fin troppo bene oggi come il tempo di qua c'è un sole sereno tutto sereno ormai la prima era è arrivata ormai siamo qui siamo pronti ma da una parte non vedevo l'ora anche il freddo l'odio proprio giuro il freddo il odio ma io in realtà no io a me piace tipo il periodo mite tipo quello da adesso che non fanno il freddo né caldo capito purtroppo arrivare all'estate faranno 40 gradi e voglio video house tutto l'estate guarda richiedere se stati dirò adoro sempre più l'estate io al freddo proprio non mi piace anche da te che i picchi raggiunge ai abitatori non vi parlo di milano allora dai a roma non arriva a quei picchi e fortunatamente per fortuna non arriva a quei picchi cioè nel senso la temperatura capisco è molto diversa mamma mia a roma no se è stata fa freddo ma capito per brevi i picchi li raggiunge ma poi per pochi giorni qualche settimana invece la torino maggio se gela come i cosi a torino fa freddo d'inverno hanno le alpi mattini è venuto a trovare un mio amico che di napoli mi fa mamma mia milano non ce n'è no ma cattolino fa freddo ci parlo chiaro dove andiamo stiamo andando distese il duello aster buongiorno caro per pomeriggio c'è la troppo ragazzo di scendere l'incirca qua venga venga o te dico stanno a fa tutti i topastri c'è l'uno dico almeno abbiamo fatto due game io e marino e abbiamo beccazzoli topi si è razzati poi spari un colpo escono tutti e ma c'è nei colpi limitati e due coglioni sta roba di fatti io entro nella villetta schiera basta che state tutti qualmente non succede niente ecco mariano e spappolano sono talmente abituato a girare la testa che mi viene da girare la testa del secondo monitor ok non è normale normale come se fossi in live da legge la chat è normale grande torcicollo guarda l'ha preso lei piccone quello di nez penso che l'ha preso dai da mille non impazzisco i picconi in realtà quando si tratta di skin ok ma i picconi c'è presto particolare attenzione ai ai po di champagne c'è gente ma come aiuto per dio ma sono a un full team raga si è venuta scena vedere se ne vada proprio veloce ma perché sanno dove sei questo mi sanno un po di sniper ma non credo dai non lo so da qua siamo un po di impottibile è impossibile è un po di coglione caccia del pennudo adesso adesso starà pensando mi lasceranno stare ecco è quello sto pensando è impossibile che se mi hanno visto allora se erano snappelli penso che erano già arrivati eh sì sì io penso anch'io come stanno andando a stare non benissimo in realtà ma perché ma calma calma la prima la prima sparano poco e quando sparano 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 bene poi ogni volta che fai un team arriva subito un altro team pronto a rompere le scatole quindi c'è poco margine di capito ai 170 secondi ancora ce la faccio a prendere sì la voglia voglia mi stanno cercando mi sa che sono loro hanno ruotato verso sinistra meno male che vuole impulso sto giro se l'ero morto l'impulso salva vita è l'impulso fondamentale secondo me l'era anche adesso così c'è ragione a star ormai abbiamo raggiunto il livello tale che tocca stare attenti ai topastri spero che non ci sia nessuno così per botto subito ho visto che c'era un collega visto c'era un po lo vicino un collega lo sto facendo io ecco un collega era un pollaccio crede sento le aree stanno dietro di te ma però forse stanno affetta con qualcuno prendi le schede per una macchina magari primo piano signor milano privato signor marinocchi pure elevato magari senza spaccare le altre macchine seppurti ma con tutto io ma meno di gente aspetta subito gente a destra pure allora non andare a destra no 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 bravo 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 fermo 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 prima di restare chiama al drop e poi resta girati gira di house gira ok vedi lì chiama al drop così il tempo che arriva ok adesso ci resti let's go skill let's go si è così che si scappa si è così si è così che si torna il game andiamo poi lì a una cecchina dal buon house e capace la torta è successo a me nella storia perso il conto champagne champagne da me per tutti ma scusa dov'è il coso l'air drop è qua vicino da quei parti 300 metri e lo champagne per tutti un big per voi e champagne facciamo champagne incontro mi piace questa season meglio la scorsa secondo me diciamo una cosa che mi piace testa si sono i bunker sono buona trovata però per il resto insomma me non fa impazzire il movimento ragazzi quello ti ci deve abituare perché capisci ero molto più forte col vecchio movimento arrivano stanno venite st'altra parte ora che sono tanto proprio bordo safe verso sinistra così voglio capire ma dov'è che è andato il il coso ragazzi l'air drop era andato da sta parte ma secondo me qualcuno l'ha raccolto già lui già 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 che l'hanno già preso fra perché qualcuno se l'è fottuto allora macchina macchina io sono io sono andato a pleasant io ragazzi perché io non c'è un'altra verso di me di ruotare fra l'ultimo bordo 6 guardi qua ma siamo nudi guarda qua benettere proprio il benettere sotto non del benettere io qua il benettere il benettere il benattico la qui esatto ora qua un po' di pesciolini un po' per tutti guardi quando si ritenga lei è capito guardi intanto mi devo ricongiungere con loro a me mi perdo sempre che mi perdo sempre niente con i pesci che arriva 75 ragazzo non da portare sta roba già su un flop per qua che se stai portando a me colpi pompa da me colpi pompa signor marino un uno scildone e 3 shield spacca scudo ok macchina che ho c'è una macchina non è una macchina e sono tre sono tre liga i voli 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 ho fatto ciò i fantasmini qua mamma uno deve sta sparacchia è avuto fastidio e uno sta venendo per lo gioco c'è un altro qua e quello che ha già fatto torna indietro quello che lo vedi lo vedi mari ma sono morto ragazzi sono morto col pr come sei messo sono morto è un po' in domani porca miseria che nervi non c'è un impulso c'è un niente per vivare domani c'è gente che può occhio ma state sotto al canale sì sì mari 5 dentro una presa la macchina è uno infatti se n'è andato problema che mostra ma piedi c'è stata una maglina allora ragazzi tanto gli ancora una zona riempiti di vende minchiate varie no ma vecchia ma intanto siamo siamo cilla si sapete quello che ce la prendo io ma quelli secondo me arrivano adesso di qua infatti arrivano 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 ve l'ho detta camper a traga fitta di viva si 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 brava infatti manco il bordello immobili a sto gioco c'ho giocato troppi anni a sto gioco ciao jove ah ah ciavole granate si ma era troppo lontano ormai c'è un altro team che li ha visti eh si 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 è io 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 non mi muovo neppure sto fermo come entovo è nuovo item germar di corra comunque ragazzi voi avete la mia età più o meno no super giù sembri ammi tre piccini della warner bros mamma era indica questa roba no amori parte non c'è manco mezza cura io ce l'ho state pulizioni togli una ancora cioè non mi hanno visto ma ragazzi mi sono passati davanti ma penso che sapete a live ho detto io sono passato avanti torna niente pensa se fanno regati una cosa è una cosa del tipo che quando il personaggio dei fortemente rimane in mezzo alla tempesta dopo dieci punti vita che perdo e cominciato si è quello sarebbe figo è sarebbe figo ma non può più staccia una tempesta è finita sentiamo senti tipo una vocita come anche su world su world non tossiscono si 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 intossiscono e si mettono e c'è vedi proprio quella maschera c'è tossiscono se non hanno la maschera bravo bravo uno sicuro vuole restare il cento per cento ecco lo vedi lo vedi se che fanno usciate lo pusciate lo che fai no che è successo ma io il mio è morto il mio è morto ma io non ho vita però è già vedi qua vedi qua vedi qua medico uno è uno se n'è non ho ucciso io se ne è nato vieni che ha diventato indietro fregata oppure da me perché c'è un team il compagno era uno solo no c'è un altro è l'altro è scappato con l'impulso e ha rebuttato era lo stesso team tra se ne va da vari porca ma che sta succedendo come potibile ragazzi è fatto bene si prende al finish li vali 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 vanno raccogliano raccordo vado a io ho preso finisce scappando dietro la pietra va detto la pietra qua come stasera ragazzi vi dica la verità senza il movement è difficile scamparsi la raga dobbiamo raccogliere più impulso ma chi era quello per terra e sarà tempesta ok non è un problema andiamo avanti però io c'ero il penuto non mi sento bene insumi loves non so chi era elite questo che mi ha spetti un litro io me la filo con no no per me il mio piccione ormai la mia main skin comunque fermate becchi certa c'è tanto grazie mille robie per aver regalato un abbonamento che è finito all'on 100 grazie mille robie grazie per gli abbonamenti regalati rega grazie mille abbonamenti regalati quello che dicevo oggi poi lo ritiro spesso e volentieri mi raccomando se tipo dovete regalare se volete regalare tanti abbonamenti fate il livello 3 perché c'è il discorso quello del 60 40 questa è una cosa giallù che non so se tu e house sapete però ditela spesso e volentieri ok sì sì su tutto c'è anche il 70 30 è però intanto già 60 40 non passa alla volta secondo me il 70 30 è difficile arriva 300 cioè che cosa vuol dire che se arriviamo cresi a 100 abbonamenti di livello 1 o 100 punti abbonato di livello 1 perché ti puoi farti capire l'abbonamento di livello 3 vale come se valesse 6 abbonamenti di livello 1 perché vale sei punti no no come non spiego a sì livello livello 3 bravo ok ok no no tranquillo pensavo che vissero cambiato qualcosa il livello 3 che è quello lì tipo che costa 20 euro credo quanto costa una cosa del genere va e come se fossero 6 abbonamenti di livello 1 quindi 6 punti a raggiungimento di 100 punti perché i prime purtroppo non valgono in questo conteggio a raggiungimento di 100 punti per tre mesi consecutivi la ripartizione dello streamer che ne so facciamo il caso mio marinocchi passa da 50 a 50 50 per cento per lo streamer 50 per cento per twitch al 60 40 a favore dello streamer che è un 10 per cento in più insomma se poi uno arriva addirittura 300 abbonamenti diventa 70 30 ma insomma se tratta di insomma arrivi a quella cifra vuol dire che diventi in full time streamer parliamoci chiaro non ci puoi perché non ci puoi arrivare 40 e tantissima roba a lungo andare fa la differenza lungo andare fa si ha regalato cinque abbonamenti ho fatto ragionamento adesso crisi ma come non ho capito crisi non ha capito basta dirlo no crisi non era così la situazione l'abbonamento di livello 3 fa 6 punti le sab regalate no manco il prime manco il prime sono le sab a pagamento però le sab a pagamento regalate valgono no neanche neanche è sempre supporto un ragazzo ti deve ti scrivere posso regalarti cinque grazie mille a crisi no ma crisi non è che non ha capito crisi ancora dice ci arriviamo tra cui a ok basta che hai capito crisi meglio l'abbonamento di livello 3 che le sab regalate comunque hai capito la rotta no ma ero preso un attimo in corpo grazie mille crisi aver regalato l'abbonamento a normale anno a raf a tara e aden e adani scusate scusa grazie mille credo ma tra l'altro abbiamo raggiunto l'obiettivo di oggi è tra grazie mille 11 su 10 importante che ci sia gente in tavolo sicolo se no che poi che risiede detto lascia stare il tic toc oggi oggi crisi si arrabbiato con tic toc avessiamo eccolo qua da era nata a prendersi una brioche no 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 stavo facendo una chiamata perfect perfect stava chiamando twitch e cialuaggi e stava chiamando twitch e ragazzi stavo proprio chiamando loro vero no no solo sto scherzato allora vediamo un po vediamo dovete voi ma io farei di deciditi la che c'è sta erano una stessa nuova e marino perché non ci siamo incontrati ha pensato mai si è spatolato dei che come venite venite qua aiuse grande che ecco anche nati è penso proprio di sé perché ancora grazie sia groby che a crisi e grazie mille ragazzi parava rava rava di ritter e ritter e rio ciao not chris per te le scuse le scuse così questa gente ria ma cosa fanno nuovo potere nuovo potere ti puoi ricaricare dentro l'acqua la vita solo e poi sparacchiare e lanci dei colpi proprio e boh già lo credo basta già è tanta roba insomma sesso c'è un team qua sulla montagna e io non ho armi rega non ho armi ma fuori zona ti ricarica è quello non delle casse possono provare in occhi marino chi eccomi qui eccomi in pratica adesso andato lì mi sa che mi hanno sbagliato venga 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 presa una banana quella super si prenda la parola fatto fatto un bella maniata a sotto ci sono anche i barili ragazzi che siamo andiamo giù dai siamo pronti siamo pronti andiamo a caricare il dual sense sono addirittura a crisi proprio ma proviamoci dove sta andando lei house è stato un giro a piedi perché ho paura che ogni volta che vado sulle ziplà e mi tritano no si trova questo sarebbe dovuto essere il nostro land caro ciao luaghi questo me piace poi abbiamo cambiato tutto quel giorno secondo me avremmo dovuto insomma lasciare questo land dice che quell'altra era troppo c'è nel senso scendevi male eri nella mail ma qua invece un minimo di scappatuglia ce l'hai più o meno hanno restato stanno sparacchiando qua un imposto volete andare da lontano possiamo un rifare diciamo infatti da qua sopra sopra venga 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 o aster se vuoi tu vuoi entrare in quel canale dove siamo assolutamente se vuoi fare il quarto si ha trovato volta abbiamo giocato l'ho trovato bene ma si a star in 30 se preoccupi ah ok crisi non si preoccupi penso che non mi era per dire per spiegarla bene dopo qualche comando crisi perché magari molti non lo sanno che dite usiamo la giampa e aspettando adesso ragazzi andrei col già lui e g perché noi andiamo 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 morto 1 morto morto 1 con le ali qua sta pushando quando noi uno sotto lo so io è accaduto a terra c'è una cappiccina capi quello bravo è una terra 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 prendono la villa della serata si è bravo non pusha non pushata non ho nominato preso solo la killer e ha detto qua dietro io mi sa che l'hanno restato ok io porto un altro porto porto un altro morto 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 li sto laserando ragazza è pure io uno qua dietro è andato ma c'aveva una capìa e ma mori animano pure quello ma ragazza scendiamo un attimo c'è un porto un altro porto un altro ragazzi però dovete venire e la caputana li sto tirando tutti gianna come cazzo si è arrivato tu la da sotto vecchio pippo grazie bisogno bisogno ho bisogno ho bisogno ho bisogno cercato pure l'altro ragazzi aspetta storico ok prendiamo ceste kill interessate dovete fare da porre se avete una bolla era meglio però ragazzi coprimi i malinocchi veloci perché stanno salendo subito in tre e ce ne ci stanno reali quanto già lui a 7 forza un attimo ma qua ci sono le bolle qua ci sono le bolle tranquillo ora avete col pr che non ne ho e tieni qualcosina ok 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 già così il marino occhi in occhi tutto teso tutto un cliccato sotto sotto morto ok provate a rompere da qua rompete da qua guardate arriva da te già lui mamma non cascavo non non crescere giù c'è giù un altro io posso scendere con le ali ma devo essere sicuro tutto sta questo a me serve più che altro pure shield sono piccoli scelte non ne ho io ma scendi come io sto qua medaglione dove è in questo ecco medaglione staccato ok ok si ricarica bot passi su hai votato i suoi io tanto vi controllo serio gioco porto un altro abbastanza facili ma è baggato cos'è ok ci sono passi che non sono dei voto occhio io ti raggiungo gioco ammazzato e c'è un team ma solo uno io ho visto tre passi presa la scheda andiamo via ciao allontaniamoci un attimo tanto loro prenderanno zeus sicuro infatti prendono zeus vai tranquillo usa le ali usa le ali tieni le basse prenderanno loro zeus di cazzi perché comunque si ricorda che siamo sempre siamo sempre in tre ci dovrebbero essere un vesco vicino andiamo a questo che c'è bolle qualcosa house no facciamo tanto facciamo subito facciamo subire buttiamo in due siamo andiamo andiamo ciao giulio benvenuto via 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 venga venga però lei mi ha sullato i miei aerei mi scusi ai 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 brutto gesto e sono qua dei barili giallo sono i medici piccoli e medici piccoli pozzetti piccoli e mi sa che dobbiamo andare al volto ragazzi perché io sono a picconella ma questa macchina lo aspetta qua cari siamo pronti siamo carichi dai io ma rendiamo poi sei tu alla guida giallo ok il gattaccio il gattaccio il gattaccio sa che sa che sa che è raga mi sa che dobbiamo andare al volto per forza voi come siete messe con pure white bene ma io ho una banana tre kit se le fie culo la banana eh l'ho già fatto prima penso che l'hai piaciuto è andata molto bene vabbè dai un bottino da sei eliminazione dai per il momento va bene va bene dai occhio perché ci potrebbe essere girda il problema è che c'ho oltre le ali non c'ho il movement raga incredibile tiriamo la macchina ma dove sta andando mi scusi è al volto al volto ah al volto bravo bravo è certo che sono bravo lo so andiamo qui e vediamo se c'è qualcosa di veramente interessante di succulento eh per forza per forza dobbiamo fare una toccata di fuga ok il volto è libero un po' di champagne questo è buono eh raga mi tolgo bom posto possiamo andare? qua si le splash le splash eh no non posso tenerlo posso tenerli io ciò gialli no le facciate le facciate eh sì 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 andiamo ma son full c'è la banana che è in corpo andiamo 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 ma sono hai ragazzo da gli avari e saranno buono 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 bravi bravi ci voleva un attimo una toccatina perfetto hai già tre kit buono ma non toglie ancora uno siamo abbastanza c così ok a destra sparano c'è sinistra sparano allora sto vedendo da dove entrare se vogliamo giocarci la bene andiamo full sinistra in modo che siamo a bordo della zona dietro abbiamo le isle così nessuno ci può sparare ok ma uno mi deve dare il cambio alla guida vai ma ditemi dove? verso il ping? eh si dobbiamo ruotare un po' più chill capito così dietro non abbiamo nessuno che ci può sparare champagne champagne eh no ma il problema è che non lo fa gli altri lo fa solo eh quello si questa è una cosa che proprio non capisco ma nel monte olimpo alla fine nessuno ha preso il diamante è rimasto lì visto? eh ti conviene andare verso lì qua guarda il ping 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 no so io so io ping rosa ping rosa io c'ho due bunker come ottimo ottimo abbiamo abbiamo una moneta diciamo un medaglione che sta arrivando lo vedo lo vedo infatti li possiamo dare tranquillamente basta 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 uh hanno restato hanno restato questi guardate quello quello lo vedete 27 blu buono ah tu stavi sparando un altro ma sta dentro occhio no 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 non è non è lì dentro è uscito è uscito è uscito guarda uno è qui 24 24 mi stanno sparando non so da dove eh venite su venite su ah ecco lì ecco lì sto su per i tetti hanno i cecchini ok ah venite via venite via una porcata una porcata perché siamo in mezzo a un panino ce l'hai kit house oh tieni oh se venite qui è perfetto venite house arriva io mi sto tenendo un kit fra la skin si del volatile sono riuscita nello shop è riuscita nello shop e l'abbiamo presa non ditemi che avete fatto il barile eh il barile ce lo teniamo per correre eh ma siamo anche in zona ragazzi arriveranno tutti è breve arriveranno tutti mi sa che sono andati sotto sai non so ditemi voi se volete andare qua sotto secondo me lo sono qua su e si sono andato la vedero metta la stazione c'è sta una rega 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 villa villa c'è uno col c'è cocchio si lo vedo bravo pari e ne buca di secondo me c'è come ne ritorna acqua rega se non vogliamo morire siamo in sei tanto quello se deve muove eh niente andiamo via da qua ma ti senti come sniper eh quello ci vuole butta la terra sai come pusha se ci butta uno dei noi tre comincia a pusha come cosa e allora ce l'abbiamo a pizza da qualche parte buona salite 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 devi aspettare che si chiuda la zona però ascolti a me bravi vieni 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 scolta davanti davanti a noi vai ragazzi davanti via 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 ci stanno laterando già scendi sali 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 ho capito ora mi sono messi la guida per dire vado se non sto andando sto andando siamo senza benzina qua e siamo morti se ci prendiamo quasi a morti siamo andati non siamo morti in avanti in avanti sei tranquillo c'è il bunker c'è il bunker tranquillo sei tranquillo ne ho preso un po l'altezza vediamo se da qua sopra riesco a fare qualcosa c'è uno che scolazzo guarda ma guarda dove andate a chiudersi la zona zio porco ma non senti il rumor dell'arma come mai si è bugato si è bugato dobbiamo passare sotto il ponte house viene ha traccato questo qua è anche da una mano house aspetta già lui vediamo se riusciamo dove sta precisamente in volo ora è questo uno di vita sono addosso rega vai 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 a terra terra bravo sta arrivando anche un film da sopra dobbiamo andare dove pegli ali marinocchi si le cambio con le sue ok andiamo via e hanno rianimato qua ho visto c'è una macchina qua c'è uno sul tetto che è cato a terra morto bravo e c'è uno che sta a dire salio un altro si 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 do prendere la macchina ragazzi andami in zone se non muoio vai 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 ricordati che c'è un bunker io cosa però un vero volatile rega un vero volatile queste ali ehi vedi come si vola rega quello dietro può essere che lo riusciamo a piccare eh ma guarda hanno già preso ecco l'ho visto l'ho visto l'ho visto sta qua ma rivieni vieni venite qua l'altra gente dietro di noia quello c'è uno di vita tanto quello muore quello muore quello muore ho 40 colpia non ho più tieni tieni occhio 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 qua qua pur sentito qua stanno a pinga le metti imbucati le se ce l'hai no non c'è niente no no lui c'aveva c'è lui c'è lui c'è lui tranquillo adesso in 23 la riga dovete visto uno c'è il secco uno non sono il tipo in full team riccate non piccate non è se stavano 19 38 io la serata di tutti allora venite che vi teniamo rotare rotare vieni house attesto kit vabbè andiamo in giorni vieni venite 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 via la ziplank c'è qua ma se tu vai fuori zona tieni non è fuori zona nel frizzone fra chi ti sa che chi ti sa la si l'ho visto visto presa presa permessa che l'ha preso gianluca non c'è lo io c'è lo io c'è lo prima prima di no prima l'ho preso io ok c'è stanno a sua raggio ora di sparare una tutta il problema che eh vedi no sta arriva e sta qua dietro la pietra tipo credo no guarda sotto è sotto è sotto è sotto uno più colpierri 28 blu a quello è scudato chi è che c'è colpierre ragazzo colpierre c'è no 85 io posso da qualcuno 0 c'è gente di fronte la occhio occhio dovete passare da lì dovete passare da sotto da sotto prendo zipline si arriva da dejalu ok ma sono morto ragazzi è andato ma perché si è passato è fra è a voto tutti mi sparavano sono appena curato fra hanno assoltato tutti guarda qualche rimanere qua giallo ti anch'io tegelo veloci conosci che c'è uno lì c'è uno lì no mi devi dare colpierre mi hanno fatto dogana ragazza mi hanno fatto dogana del palo dovuto io so agitazione tutto guarda davanti a me 321 via sinistra sinistra un altro ma no no mi ha fermato peccato non l'ho confermata con la terra già l'occhio guarda mia scheda come se ne va dentro l'acqua ciao ragazzi oh bello come ci muori di come nella serata a quella sono morto comunque di giorno poi c'è un tipo sopra no non mi avete fatto aggiungi aspetta la serata giungo dopo si aspetta no il treno va fuori bello 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 bravo gian bravo cazzo bravo 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 che sfiga allora marino ha ruotato dove dicevo io però se anche austen ma io sono sono perso mi sono perso io sono stato sparavano sinistra e davanti e mi ero bevo perso io sono stato fortunato che c'era c'è me so trovato con la zipline capito dalla di fronte si si quindi l'ho presa e ha tagliato lui invece stava già o più avanti o più dietro non c'aveva la zip allora aspettate un attimo che così siamo 4 e riprova riprova si lui è campione rega e lui è campione ma io perché non mi sto impegnando no no vabbè non è senso per dire che un bel cavallo dai va bene va bene i cavalli sono tutti ben accetti intanto io faccio penso che faccio questo adesso vediamo va bene si si adesso vediamo alla fine è meglio essere 4 che intriga capi ah si è proprio sicuro eeeh dov'è che è aspettate che arrivo eh un secondo io e austo siamo rimasti fedeli ai bulli ovvio è volatile troppo bella questa skin mamma mia bellissima non l'avrei presa se no adesso non l'ho battuto c'io appena ho visto che c'era che mi hai detto anche anzi che mi hai detto guarda ci sta ho detto vediamo vediamo grazie a tutti Grazie a tutti. Perdonate se smirerò, ve lo dico, è il mio primo game del giorno. Che cosa? Perdonate se smirerò, ma è il mio primo game del giorno. No, no, non te lo preoccupare, non te lo preoccupare. Sarà un game perfetto. No, non te lo preoccupare, non te lo preoccupare. Perdonate se smirerò. ci siamo ci siamo già l'uomo vinciamo una sera buonasera diciamo abbiamo vincitati siamo ci siamo tanto a che berlacqua al pesce ha fatto bene ha fatto bene io ho finito di scaricare comunque bravo bravo quando quando il debutto su rp quando in teoria adesso vediamo certo un po di prova in potere quando si prende le pc marinocchi pc è tutto nuovo rega tutto nuovo tranne la scheda grafica che era l'unico componente che non avevo cambiato e comunque la scheda grafica costa metà pc da sola per quella volta quella volta non cambiare che sanno me veniva una cifra dopo un investimento non so aspetta sto vede un attimino se se riesco a farmi fare un price artist c'è nel senso se qualche azienda mi può venire incontro se già riesco a risparmiarci qualcosina c'è insomma questi tempi non sarebbe fatto male la fortuna che c'è io sai che succede rega anche domani avranno su amazon e giorno dopo quelli marinocchi un problema possiamo venire contro le tue richieste io come è possibile poi tra resi tra cose e perdine ci vedete ma andiamo avete messo pronto sì sì mi sembra sì per forza sono i match mega che sono lunghi ragazzi zero costruzioni sono lunghissimi non mette i tornei rega vedrete mettono tipo le cash cap invece darti 100 alla fine ti danno 500 dollari accannano tutti le build fidatevi non lo faranno mai sto scherzando però andrebbero tutti ad accannare le build tutti raga tutti ma come mai hanno abbandonato tutti le build che si è successo andiamo il potere dei soldi è capito il potere il potere sempre a fencing volete andare a raga e dobbiamo scendere un land perché in quello di prima in quattro non ci stiamo bro nel senso che questo è lato dove pensi cupo fencing cavoli ma io fra ma tu mi parli e noi abbiamo tutto in italiano è questo qua davanti dai dove le bille di pesce distesa di se distese dice se noi pensiamo che era come canciano parlato italiano e mi dite frenzi io che cazzo ne so frenzi se mi sembra che uno di tal meglio a forza con la blu a quella blu a quella blu frenzi frenzi in filz e niente mi hanno già sciolto ottimo anche in tempo da terra re mazza che debuto hai fatto il tempo da terra re e mettere te venga fa compagnia io ho trovato una macchina non c'è riesco non riesco a venga venga col deltaplano proprio mi hanno messo a terra buona stavano venia pia rega ma io a mario tu sei di là e io non potevo sta calmo perché c'era questo mary in coria speriamo di trovare un medici vieni qua mi faccio la banana d'oro qua ok arrivo voglia da gianluca calmi stai calmi erano due da me nel senso che uno stava lontano a guardare la situazione uno ma push al non avevo armi e non c'evo niente avvicinando dove siete voi datemi sul tetto sul tetto io ma gli occhi forti sfortunato è 62 62 62 la terra per bravo bra il tetto c'è un amico sulla destra non so se vedi ah io usciate le due rega e mi stanno busciando in camera sta venendo da me merda mi hanno tritato di nuovo no ma raga questa città pulcita città città full questo che io a meno a vedere l'hanno skin l'hanno skin questa qua città non ci credo l'hanno skin città full ve lo dico già perché è venuta proprio dentro il bus e diretta con lì dai attento 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 è la frase finita 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 ci va e ristartiamo a ristartiamo come la parte a questo tutto a tutta l'aria viene andata no no ma vecchia città città valo pesante ve lo dico già c'è ma proprio è vero sì 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 uno è venuto proprio dentro il bus e convinto da me ma ha fatto max ha cambiato nome alla nagra filmato eh sì mi ha cambiato da gianna max è capito vabbè e lo sai qual è il fatto che annaggia io sono sceso non c'ho un'arma ma perché non avevate capito quale era lì stavano a cubo canciello ma tu c'hai lingua inglese tu è certo lui è un pro player ci sta ci sta guarda emilton invece andrà a correre rompe il cazzo fortnite rompe i camion delle slurp assurdo fare questi pompa or ma che lutto hanno trovato questi rega io col super liquidato porca trova questi erano già col pompa or sì c'era quello che già stava aspettata aster infatti aster mi sa che quello che ti ha preso al volo mi sa che può essere che era il cheater che diceva giallo perché ti ha sciolto non ero neanche ancora atterrato con l'entraplano l'ha buttato per terra ma anche la città è messa a desideria perché insomma nocarti mentre sarei bravo non è semplice magari lo puoi crackare poi lasciarlo guarda ma l'ha proprio buttato giù del brutto si è fatto un headshot e un body col dmr è proprio una facilità al dir poco disarmante si beh quello che stava usando zeus è un po pirlone però in mannato ah ma quello si perché è rimasto cioè l'hai atterrato come fai a stare la fermo manco anche io potevo buttarlo per terra quello non per niente nel senso stavo fermo bea però fattori armata ciao pietro ben trovato quindi sempre distese volete andiamo sul main ma ovvio che dovete vi metterò l'ho messo io ve l'ho già messo il troppo giusto per scendere dopo mappe dovrebbe essere questo ma anche senza ci sono dei miei amici pure in partita alla dire fase subito in là da un po marinocchi e anche se vedono uno dei due polli dicano che se vedono la mia nel senso tipo delle marinocchi marinocchi comunque sono tutti qua non si sa come mai ciao cirru e si mentre siamo quattro si venite al main ragazzi venite al main sono qua sono qua credibile un'arma avranno dependo grazie e c'è un'arma quasi ccc ccc ha fatto una cassa ok qualcuno di valentina che ha trovato di te che avete trovato delle splash qualcosa è trovato una forza che mi sono subito bevuto onde evitare di essere atterrato in tempi record bravo uguale e di splash no purtroppo com'è possibili però sapete ho trovato delle acqua ci sono ci sono i bariglie venga 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 qualcuno venga 59 1 aspetta 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 si si aspetta se si li sto piccando da lontano ho trovato splash io bravo aspetta andiamo dal milano andiamo dal milano stanno qua regalo sbrigiamo se vediamo ste porte hanno qua guardate li vedo li vedo li vedete stanno 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 fai tanto c'è andiamo adesso non andiamo più diciamo vai va bene va bene ma se volete andiamo sono sotto sono sotto sono sotto uno era qui a 30 ho visto treccato uno caccato una skin super eroe morto uno rientro 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 che mi stanno laserando mi ha fatto male a quello che ti stava pushando uno è qua dietro uno è qua dietro lo vedo lo vedo lo vedo lì ok uno colpi pump e non c'ho nulla è andato avanti e non c'è power pump uno di vita 28 la terra bravo distrutto venite prendiamo gli altri è bravo che le confermi maria si si se non sia mai arriva uno c'era il tipo vestito da bombarolo oscura che gli ho fatto un 86 non so dove si è andata ci sono scendini la per terra rega secondo me sono un po nascosti l'occhio si è sicuro ti lascio gli scendini qua ragazzi io ho lasciato e lascia le voze tutte qua c'era il mio r2 in realtà no c'era il mio no niente aspetta vi lascio i big vi lascio i big in più ah sta non andare a stare a savage split 100% infatti sono là volete andare andiamo 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 prendo oggi vengono venite arriva arriva arrivo prendo solo queste tre colpi se riesce a passarmi a prendere vado e vi lascio giù un brago sei colpi pompa giuro sei colpi e te li do quattro ti lascio questo si certo lo prendo subito ma poi tu già prendi lo prendiamoci andai vuole lei no no vada 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 è indifferente io sono da pad io sono qua dentro 100% infatti stanno feitando mi sa qua a destra saranno qua dentro sicuro 100% molto probabile eh sì eh però non ho lanciato le bocca ok occhio eh bravi fate casino così ci sentono lascio giù due bunker se volete li posso prendere io lascio giù quattro bolle scude vai sono nascosti qui ma non capisco dove questo è andato sotto tipo eh ma non è inutile ah bah grazie mille per il ride e benvenuti ragazzi ah guardi guardi stanno feitando qua stanno feitando qua benvenuti ragazzuoli benvenuti oh sbagliato dove stanno a feitare ah ancora a fencing aia vediamo la taglia vai guarda che stile il piccione col pompe in mano che corre ma pure col cieco fa la sua sporche figure bello abba ciao nope ciao official ok sono qua sono qua questo è per voi regà questo è per voi eh mi sa che sono sotto però perché senti i passi ma non li vedo sono sotto macchina da sta parte sono sotto sono sotto sono sotto uno vi sta salendo le scale da qua eccolo eccolo proprio ferma ormai una qualcosa alla incredibile niente nata andata andata la casa su c'è vede così morto subito morto subito colpice cosa vede regà no 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 fottibile grazie niente come stanno andando bosque squad la squad ci ha regalato qualche soddisfazione però perché siamo arrivati sapevo che erano quelli 12 mica questi sono da prendere però dovete venire qui mi chiesto che rinculo stavano abbiamo ancora le bolle scude si è vero sì 24 possiamo metterne una sulla macchina e pusciarli con la macchina ascolti ma se mi lancio invece accade appunto con le ali con le ali ti penso ti massacrano vieni 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 Arthur voi mi frecate fate il giro da sinistra non dovevi usare le ali attento attento che ti massacrano con le ali ho visto non c'è che credo 72 vi sta pusciando uno con l'impulso sopra il tutto il tetto sopra il tutto il tetto andiamo a me crackato crackato questo bravo morto entrare dentro venga era scappato occhio potrebbe tornare 59 mi sparano anche da dietro servizio copertura astere copertura sario uno sono questo movimento qua non è tanto bello da vedere lo so però venite qua ragazzi vi faccio un po' di sciampagne bravi house devi venire qui sono qua con voi sono sul bunker qua ragazzi anche dietro anche dietro qualcuno passi passito sto io uno di vita uno di vita supereroi dove vado io vado io è andato di là è full di qua basso oh mamma mia che macello colpi sniper nessuno ce l'ha no 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 quarto 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 il mio quarto il mio dammi dammi faccio un massacro è due solo c'è c'è stanno sperando a te già no 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 però ce ne dobbiamo andare via fidatevi ok andiamoci abbiamo una macchina per andare via volendo possiamo girare full andiamo andiamo ciao storm comunque è un'altra roba giocare che cioè non mi lagga niente così eh fra il live lagghicchia un pochettino è diverso ragazzi è un'altra roba così vari giochi molto più 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 un po' sono buoni che mi servono non si è di abbassa qualcosina se abbassi qualcosina magari dici eh sì spazi qualche settaggio invece mette tutta ultra tanto alla fine differenze no no secondo me non è manco questione di fortuna e traga questa non è che magari l'obs sul pesante eh no dipende pure quanto bit rete ha messo almeno 6.000 deve avercelo eh lo so ma quanto hai messo eh penso 6.000 sei sicuro non è che hai messo hai fatto fa tutto a quello all'obs quaggiù sparano eh ragazzi sì sì se venite qua prendiamo high ragazzi qua sopra high lumberjumber no non prendete quelli non prendete quelli che vanno fuori zona no 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 161 in fondo no 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 ma c'è un team sotto non ha senso non ha senso si attenti è brutto è brutto è brutto fidati dobbiamo ruotare ancora da destra merda mi hanno preso colpice che non abbiamo vero solo di colpi no zero se lo mettiamo da qua qualcuno ha shieldino o shield non c'è niente io ho un kit io allora niente attenti attenti anche alle macchine che vedete ferme che non sono nelle loro posizioni macchine di fronte giallù 28 28 28 28 28 ancora 28 50 mamma quanto ci impenna star ma è scappato più leggeri ne avete ragazzi io ho 300 tieni qua dietro scusa mi trovo messi fuori zona attenti che qua c'è uno che deve entrare magari stanno andando a restare ragazzi abbiamo l'isola secondo me è da prendere 8 avere c'è anche già un altro team proprio che altro abbiamo bisogno di cura eh bravo eh lo so allora eh sì no 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 c'è marino no è che tanto inibio ma cos'è se ferma no ragazzi vado un attimo qua sotto a lotare qua vedi 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 infatti dovevo andare anche perché ci dovrebbe essere un supereroico nascosto da qualche parte allora vediamo un po' ciao salva ok ho preso moto qua da me moto da me ragazzi ho trovato pure venite vieni 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 su qua su qua ragazzi no no ce l'ho con vado eh macchina lumberjumber non è lumberjumber scusi 50 shield non li vede arrivo già lui eh no me ne devo andare me ne devo andare un full team un full team ok me ne vado pure io avete col pr col pr lascio qua 74 ok ok grazie 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 mari basta basta un caricatore che basta dall'isola vi cecchino ragazzi attenzione eh mi hanno preso non ci credo eh ma anche da dire dai ma che cosa sei niente adesso mi distruggono l'albero e mi finisco butta giusto bunker ma ragazzi ci avete anche un team dietro house dove è lei la io sono pronta a sniperare la gente qua eh no ma grazie marino prego c'è anche in kit moto butto per te rastre eh gli ho distratti un po' facendo così raga occhio che arrivano avesse so jump a di me so tieni occhialata in pezzo via 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 riuscite riuscite a guardare dove sono io eh boh sì ho visto però c'è sta pure gente sopra muovete se riesco arrivare che prendo il treno prendo il treno faccio da un passaggio ok ci sono sono sul treno da me da me da qua prendo porco il dash in porco l'urio pronto a 61 vengo verso delle già luco preso eh ma io sono due cause eh ma stanno sopra questi ho eh ma io li sto giampando da dietro da tutto il tranquillo 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 se mi scrivi il resti mentre scogliamo un po' ce la facciamo non ho non ho pure da darti nemmeno io volete prendere un rift ce ne andiamo via regali sull'isola e conquistata io li sto disturbando perché me stanno rift e testa qua lo prendo pure venite venite sì 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 faccio questo bacchetto per l'amor di via andiamo 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 dove dove io vado lunghi vado lunghi vado lungo vado lungo qua 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 dovete venire secondo me dobbiamo andare verso benzinaio sì 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 non è non è worth andare verso di là perché non abbiamo niente ok qua c'è un botto con cui parlare volendo magari ci do cura eh per quello infatti voglio venire qua a posto dov'è? dov'è finita? l'ammazzata? eh ma non c'entra anche se l'ammazzano mi dovrebbe stare qua eh beh intanto mi piglio la macchina eh c'è il bunker possiamo vedere se nel bunker è vero è vero è vero bravo buono un attimo devo arrivare attento quando entri non vorrei che c'è c'è gente c'è gente avete granate da tirarli granate 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 no non ce l'ho io allora facciamo così statemi dietro venite ragazzi io so voglio le posso distrarre aspetta ah no arrivo ai 21 adesso no no aspetta eh ma uno solo uno solo uno solo due scusate no so due rega non è uno mi uno no era andato convinto che rattacci brutti mamma mia che brutto lavoro che ho visto ragazzi davvero dei ratti sono che brutta cosa che mi ho visto ragazzi ha segnato la faccia per un attimo quanti erano rega erano tre no aspetta erano quattro perché uno l'ho messo a terra io sicuro uno mi sa l'ho messo a terra eh quindi uno io no allora l'inferiorità numerica è costata caro ai 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 mi è scostata veramente cara eh ma perché sai cos'è che ero one shot io tra a me ma solo una stompa e me l'ho messo giù beh ma eravamo tutti abbastanza one shot poi hanno lanciato le granate che ci hanno bravo ci hanno fatto male cane eh vabbè peccato buonasera don perignano buonasera allora raga io direi basta io ho bello giallù grazie mille per il partito e niente dai vado vado di l'house quando poi ci sei faccio l'ultimo anche io vabbè mi sto divertendo non gioco male nobili mi sto divertendo eh ma guarda che sono belle sono divertenti eh lo so comunque vado ci sentiamo buon saluto saluto grande grande bello ciao ciao tutti ciao tutti se vuole quarto io ce n'è uno buttalo dentro vai cioè fai invita l'auto invita l'auto e per discord faccio molto escamativo discord in chat o io lo passi vedi vedi un pochino ok di rimettersi in attesa che lo sposto si aspetta allora che gli faccio ok cirru ok faccio un bocca di rimettersi in salata attesa quando entra tutto tutto no è vero ma lì ice abbiamo sbagliato a parte io stavo in volo quindi poi pushare qualcuno dentro lì è un casino perché magari appunto potevi beccare full team cosa che poi è successa ma ci siamo presi il rischio insomma poteva andare bene poteva andare male perché rischio ci si vengono le cure quindi l'azzardi no che dice come va 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 vero 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 eh beh forza ho lavalo spacca io ce l'avevo 50 capi totali neanche proprio alla berlina esatto avessimo avuto delle granate roba del genere tanta roba e ci credo vabbè la prossima volta ice cercheremo di non fare azzardi desto tipo insomma bisogna sempre essere attenti azzardi quando vuoi metti pronto così almeno ma stavo aspettando trasse nel disco per quello va bene allora ha detto che è nella nella cosa in sala d'attesa non lo vedo non lo vedo non c'è non c'è no ti confermo che non è in sala d'attesa aspetta cioè è entrato nel discord ma non si è messo in sala d'attesa non posso evitarlo no deve mettersi dentro uno dei canali anche se non è sala d'attesa ma uno dei canali vocali va bene per la sala d'attesa non c'è proprio ciò qua davanti dice che non può unirsi di andare in sala d'attesa eh sì sì ma continua di rischi e in presenta di qualcosa che forse gli devo dare qualche ruolo io faccio che la gente si presenta capito quindi magari fai gli scrivi qualcosa in presenta di ieri ruolo e quel punto dovrebbe entra almeno ok adesso ci si è messo senza ruolo quindi non era buono forse eccoci un attimo raga che mi sposto sulla play e aspetta un attimo che te devo dare ruoli se no poi ti da errore ok vai adesso ti vuoi spostata cioè magari adesso mi sposto una potenza di trovare per il più contento grazie per il follow hito tutto ma adesso io posso uscire di entrare perché mi sa che mi sei mancato sì 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 no per quello da te ruoli vai in 3 da solo sì sì adesso provo vai 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 sì che l'altra volta l'ha dato problema a te Aster quindi ho fatto la stessa cosa con lui dovrebbe scegliere entrai il problema dovrebbe te non dovrebbe esserci non so perché faccio sta roba eh boh bisognerebbe dirlo a playstation io sei nato un po' buggato mi sentite? sì forte chiaro no sai per me che succede house succede che che ne so tu no? stai da playstation quando fai il collegamento a playstation io ti sposto da un canale all'altro e i crashi quindi devi avere accesso a quel canale ascolta ma da playstation discord ne sente la pesantezza di discord a prestazione dico ah non lo so ma penso te no penso sia fatto apposta eh però se io tipo non ho visto cali di prestazione per ora poi ma te leo col profilo c'è in pranzi alzi tanto da media o più o meno gli arriali trovate comunque no gli abbiamo trovato lo stesso ma li trovi abbiamo trovato anche virus in partita ah si ma dai perché sennò casomai portavo l'altro profilo quello oro che almeno è più basso di matchmaking ma no fra ma c'è il gioco ma comunque no li picchi ah ma c'è il popolo a real buonanotte ma me ne so accorto stavo a guardare il cellulare e ciao a dirci io a real ci sono arrivato tipo 3-4 giorni prima che finisse la season vecchia ma ci vuole tanta pazienza poi dipende da quanto giochi cioè devi avere anche il team giusto io ogni season arrivavo in a real anche in build il problema è che non la sto giocando ragazzi stasera dipende da tante cose poi dipende anche da con chi giochi perché poi con qualcuno ti puoi trovare a giocare bene con qualcuno meno cioè ci sono tanti motivi abbiamo trovato gente anche organizzata ito pastri fake mi capitano i tuoi real di instagram vedo che fai anche singoli marino quindi c'è nel senso in singolo io non gioco mai per dirti perché c'è pieno di gente che camper eh lo so ma i ranked è specialmente stasison impossibile prima stava fa un po' dei singoli ma pure se spatoli 1 che c'è la fortuna di mandarli in lobby arriva un altro subito che ti trova tipo one shot eh bravo se non c'è il movement per quello che dico il movement di sempre averlo c'è un cazzo da fare ma pure se non c'è il movement magari un catile una bolla qualsiasi bravo e devi sperare di tutto carico perché dopo che fai dato in teoria c'è tutto scarico quindi va beh questo c'è già l'arma mi sto sparando ma a un rimaster l'hanno buttato giù una si è ancora non vorrei scendere mamma mia cosa è il rischio si riuscivano qua mira a me ha messo che sia legit no ti ho preso col DMR ti ho sentito io sto sicuro che un altro universo un altro universo sono un pro player sto sicuro un altro universo c'è un marino occhi che fa 20 kg a partire e magari è pure scurile però diciamo che la cosa è che pure scurile si look sono anche live su twitch io faccio live pure su youtube per farle rimanere che quindi quando vedete pochi spettatori su youtube è quello il modio cos'è sta roba che è oddio ah quella nuova dell'acqua è quella dell'acqua ok uno lo vedo è a sinistra adesso sopra l'edificio ne ho trovato scuri io non so se avete qualche shield eh no nada de nada ah trovate eccoli qua facciamo un pari di qua arrivo eh uno non può neanche ah no marino tu sei proprio senza io sto proprio non so qualcosa da buono per buttarmi giù io sto aspettando quello che me nocca eh per il momento siamo full please si è così edward si è così let's go allora adesso allora uno sicuramente è di dentro non neanche armi da di subito che entrava il mister entra è lui è lui il buon cirro nel senso questo pure con le call tutto convinto let's go schi a me mister come si chiama su fortanet quello che da tipo le linee guida di me hanno detto ieri mi sono scordato il cl gl porca banana eh ma di solito io e il cirro siamo io siamo fraggers davanti a me da una gente in mezzo a cespuglio ma sono proprio cespuglio ho distrutto a 150 gli ho dato quello nel cespuglio sì quello nel bush sì 150 altri 30 75 è mortissimo ok ce n'è uno ce l'hanno al centro al centro di distese sopra qua sopra qua ok era un centro questo ok quello lo distruggo adesso attenzione davanti io c'ho una bolla c'ho pure i cosi 25 24 ah io non ho più colpi di assalto devo andare a cercare c'è qualcosa io c'è 114 se viene verso dove sono arrivo era davanti vero era di davanti uno sicuro c'è nella casa di dentro lo vedo sì sì 2 arrivo grazie eccolo là vai vai lo lasciate là o che sei sempre aspetta che ci facciamo sti fruttini adesso ok ho distrutto la macchina vai torna torna cover qua dietro venimi vai dai stai non stiamo qua vai io ti seguo ti seguo vengo a curarmi un attimo ragazzi io voglio quanti sono laggiù quanti sono uno andato via con la macchina con la jeep marino cerro formati un secondo eh sì arrivo ottimo ottimo let's go vai ok buono ragazzo due bunkati le due bolle nel caso a cui dovesse servire i modi lasciami fuori i bunkati arrivo arrivo non è stata una buona idea col pompa cos'è il dominio dell'acqua 25 madonna quanto scappi amico è stato giù hai visto dove è andato che lo seguo verso Aster dritto per dritto eccolo la va a prendere la scheda forse andato 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 a presa mi sa e andato andando qua dentro a curarsi deve essere bello shot ho solo 10 colpi di tre colpi quindi di pompa cosa infatti mi fermo mi fermo un attimo è qua dentro è qua dentro ancora a 200.000 impulso credo che abbia 200.000 pulso ancora ma quante ne hai sto andando a restare prendiamo a zipline vai prendetelo io sto andando con la cyrup guardate che io sono mate perché sto avvotando il volo arrivo sta restando si va se mi so restare dal furgone ok ma dov'è dietro benzinario si dietro il furgone distributore si no ho fatto un tempo non c'è credo dai vabbè atteggiare stati 1 mi sa mazza che sfiga che sfiga a lillo manco un 8 56 grazie a tu ma che ti sei maniato è moltissimo quello lì qua andato avanti ok è tipo ultramor mi sembra strano che sta manna caccia noi in genere so io quello che viene cacciato marino siamo i predatori ma che sta succedendo passi da me aspetta 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 dov'è perché avevo passi qua marino è leggera è leggera ce l'ho qualcosa tieni che cavolo è andato nel bus niente ma che vola marino ma la destra c'è non ho capito dove sia non ho capito dove sia da qua me sa quello con le ali può essere c'è una bozza grossa qua sfondale le mancuno riesca capia eccolo qua è andato qui sopra niente sta scappando full stupido ma lasciare stare ricongiungiamoci un attimo che siamo si arriva un po' split arriva arriva meglio meglio peccato che l'abbiamo perso sì come tutti grazie io prendo la jump che stava qua tipo si vengo con te vengo aspetto prima volevo vabbè molla ripio colpi cieco non abbiamo colpi cieco zero neanche uno io ho bisogno sia di pompa che di leggeri perché leggerini qualche ti posso dare io vai andiamo io poco niente andrei non so andrei da qualche parte a luttare perché si così macchina da me macchina da me macchina da me ma cos'è una lambretta cos'è forza brutta situazione vengo via si becca 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 si si perché erano troppo vevano dai che avevano tutto vai vai monta monta in macchina con lui vieni qua vieni qua ma che non ho un cecchino sono quelli di prima sono quelli di prima c'è uno anche a sinistra non ho colpi 80 gli ho dato questo e dici ferro sono giù sono giù full siamo tutti incriccati però vada quei roba l'ho distrutto mi sa che son morto anch'io ragazzi non capisco dov'è questo che si sta curando si è fatto 10.500 uno qua sopra c'è uno qua sopra occhio ragazzi dovevo ho pingato io aveva cura devo questo si non abbiamo fatti questo che uno là sopra regale che sta peping acqua qua 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 io ho finito i colpi medi non lo vedo ancora neanche io è qua su e questo raga sopra il zipline dietro la zipline ma quanti ne abbiamo messi a terra qua solo 111 io ne ho messo a terra vedo che c'era vicino lì al bush ancora ancora chissà dove oh merda da dove qua è top è qua è andato di qua si è qui peccato che non c'ho fa più smite raga l'avrei smiterato in testa pieno 62 blu annaccia dai ma come è potibile lui c'è lo sniper ma eh però l'ho visto io 41 a 1 eh c'è una bolla ma metti una bolla c'è una bolla metti una bolla eh se stai qua non riesco a prenderla sai eh scusa non ce l'ho fatta perché c'è ragione te ma sto gioco è baggato eh lo so lo so pronto 41 white a 1 ok ah io non ho armi da così distanza ho una k ho sbagliato io attento qua sopra eh anche se ne abbiamo uno anche a sinistra raga perché mi ha distrutto da sinistra 41 white a quello sopra a quello da sinistra eh lo so però ha fatto tempo a darmi un bel po' adesso mi sa che mi push ma è possibile beh se ti push lo t'accordo si si che forza ferra non li spadolamo è dietro la roccia con la sinistra io non ho pure hai cura e tu leo tieni vieni qua vieni qua vieni qua no lì lo ancora non so dobbiamo pushare questo è da solo adesso lo puciamo oh ma dai da dove cazzo mi ha preso caro cover ci sei un piccione in gabbia andiamo andiamo vieni 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 un piccione in gabbia è il buon house questo modo lo dobbiamo distruggere programma della giornata in realtà sono live da quasi 5 ore e io volevo provare a fare le live di sera a ferra per collaborare con qualcuno 60, 62, 85, 63 il fatto è che quando è troppo tardi non posso urla capito no no mi si è rotto il joystick vivo da solo è un casino vediamo cosa fare non posso salire io non posso salire bravi 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 c'è un medikit da qualche parte non lo so non ho lootato bravi 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 non avevano neanche una cura questi veramente andiamo andiamo qua magari qua non è neanche luttate possiamo restare chi mi ha tolto il collegamento tra discord ma voi mi sentite raga noi ti sentiamo no mi ha tolto il collegamento tra ah ecco che è successo il medaglione a sinistra quindi tutta forza che mi ha mutato infatti spostiamoci da qua andiamo a restare andiamo verso di qua ma in realtà ma anche qui potrei restarlo raga più che altro allora aspettiamo un attimo intanto penserei a curarci si fate un calma e andate voi pensate per voi raga ok io me lo re botto e tanto io adesso piglio la zippia e la pad che c'è dietro di me e me ne vado via ok c'è 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 il campo dietro ha aperto se non c'è neanche più perché non ci sono più sceso io qua non so neanche più passato ho una banana che bene ma io non mi posso fuggia già l'amore è sfagiolato discord regalo stream deck cirro ti lanciano grazie non mi funziona più il comando vabbè dopo rivede ti sei rotto il disco no no è che mi mutavo ma non mi fa mutare quindi c'era è un problema tecnico e tattico ho trovato questo attaccato ho attaccato ma mai un giorno ci voglio gioca insieme ferra chiaramente non chiederò a te di chiederglielo vedremo se ci sarà possibilità ci vuole gioca insieme però con di costruzione che lui odia queste ma chi? è un personaggio segreto caro house anzi leo porta questo bunker che porto questo med ce ne ho 4 ne ho 4 ok se venite qua tutti se non siete full facciamo un paio di splash sicuro sicuro ferra sicuro irripetibile faccio con delle ali ottimo eh ma la 37 di vita ragazzi venite qua ragazzi bello ferra un bacione pure a te e le sgoschi sempre le sgoschi eh anche se stia calando le sgoschi esisterà per sempre non dimenticheremo le sgoschi ma lì ne ho un paio di splash se vuoi venire si arrivo subito facciamocela e andiamo eh com'è com'è sta accantà ma che vedi se mi sta accantà oh la tempesta andiamo andiamo aie 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 riedirci medaglione che arriva da sinistra attenzione ah cara ruotate verso sinistra lo studio di meme vedete che sono un po' più avanti a voi no nel senso stiamo calando il livello di notorietà delle sgoschi nel senso che il meme sta pian pianino scemano scemano ma normale no noi siamo no noi non stiamo calando solo su tik tok c'è quel problema ma su twitch e su youtube ma rinocchi ma rinocchi sta correndo come un toposchi arriva venga 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 che c'è un big per lei ah allora a volo vai in vero senso ho due fruttini marino se volete per un po' di scudo almeno scendo arrivo io prenderei anche questo dimmi che vende il cecchino sta macchinetta siii finalmente vedete anche i colpi vende perché i colpi non c'è si vende anche i colpi arriva a prendermi adesso un paio a questo po' di drop vai prendi riprendi ma com'è fuori scorta ah ok marino vedi che è tornato grazie grazie se vuoi tenere troppo qualcuno un figlio no era per fare il nome no no io sono fulio io sono fulio a me se direbbero a me no zero io ma vai 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 ce ne sono 30 troppati fuori dalla macchinetta se vuoi andare a prendere oh diamine ho esagerato quindi cattina ho presi ha presi 5 8000 ho presi 5 8000 ah scusi sto un attimino ucce grazie mille per un buon evento col prai no che mi si è abbonato il buon ucce stavo lì lì per ringraziare ma non stavo a capì eccoci qui eccoci qua grazie mille ucce eh schioski oh ucce eh codice lesgoski per sempre sì sì dobbiamo dobbiamo fare sopravvivere tutto rega dobbiamo far sopravvivere tutto l'ambaratam comunque grazie mille grazie mille sì il codice creatore lesgoski nello shop eh eh cirru guarda che rispetto a quello che si dice il codice creatore aiuta tantissimo eh col lografico quello eh fidate aiuta tantissimo il codice creatore rega eh c'è qualche colpo lì comunque si buggano si buggano i fucili in precisione eh io c'ho il silenziatore eh lo so e a volte mi inizio il rumore e rispetto a quello che si dice rega rispetto a quello che si dice codice creatore usato in quantità al creator c'è perlomeno quello che sta entrando a me messa aiuta molto molto io lo dico guardia davanti magari dicono alcuni non c'è fai niente vediamo se riesco a tirare mi ha aiutato da un'altra in testa è quello l'ha spinto con la macchina rega oh qua sopra qua sopra questo è sulla cosa eh no eh no ui andrew 116 ok andrew l'ultima volta che t'ho visto stavamo portati i fan attento marino marino dove cazzo va per dio stai venendo proprio in bocca a 4 dove cazzo va per dio mi sento un'anima uno spirito libero uno spirito libero uno spirito libero uno spirito libero in questo match e voi potete ho visto stavi correndo di po ha preso un po' troppo la lettera all'essere prodatori mi sento mi sento al sicuro e non dovrei importante essere confident 116 a quello nel cespuglio aspetta che se capisco dove sono magari uno in testa e lo prendo anche ma forse si si questo no il bot quello ah c'è sempre Andrew mi fa un sacco piacere che poi si giustamente se uno lurca 116 a quello sotto qua dentro uno magari non se ne accorge io non mi accorgo è andato via è uscito 116 è di nuovo ma quanti cazzo ci sto facendo è là dentro da quanti ne prendi si si sono di davanti ma sono almeno tre lì si due o tre oh da dove è sempre dal bush ma sei messo anche un bunker vuoi dirmi sul serio mangi no dammi la forza dei rankings per favore sono rankings oh merda attenti che ci sparano anche dalla casa qua ragazzi sono rankings io farei un giro ragazzi mi farei girare non funziona non funziona 16 rotto un altro 16 a quello la che aveva le coglioni stiamo facendo un massacro power e raga che sto approvato sono ciccio gamer non lo so col cicco ciccio ha messo bene ho messo si proviamo ciccio la safe a destra si infatti iniziamo a girare ragazzi mi scelta invece ho giusto un big raga io ne ho due di big tanto mi sto scelta un attimo qua così mentre trovo le bacche dobbiamo via però quanto c'è la barata e mezza gente ragazza anche davanti a me stanno fai tanto qua qua 16 a 1 gente che vuole hanno preso la pad non ci credo 22 quello che stava andando via mettiamoci qua che siamo siamo freddi metterei un c'è chi la liceo tirami giù uno vai 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 confido confido la miseria quello lo tiro no da qua da qua c'è gente che picca da destra un carino era perfetto ma hai chiuso fuori da casa ok vediamo se picca da quella finestra no regà ma la tifesta è lontanissima c'è la tifera fuori da testa io inizerei a ruotare da qua ragazzi facciamo il giro andate che vi guardo queste se vi guardano col cecchino attenti al bush qui eh mi raccomando andiamo andiamo non passateci troppo vicino grande grid oh bruni eccolo qua ben trovato bruni cinque armi non mi metto faccio un matto stavo solo a parlare sta live sta partita ma ti utile mi hanno colpito non li vedo leo non capisco dove ti spara ah eccoli là nel bush lì sono ah no no ma veramente ragazzi fanno veramente schifo a giocare mamma mia tutti sti camper del cazzo 116 guarda lì sembra di stare allo stadio il marinocchi dove non ti sa cosa fa il marinocchi ma chi ma prima chi mi ha preso è approvato vai tranquillo tranquillo è niente dobbiamo provarci sono stato lanciato proprio è che siamo chiusi adesso siamo chiusi di mansa o se vuole un altro bollo bello a quell'altro c'è nessuna c'è un altro la mesa ok ciao è una di rodata in testa ma erano tre impulsi ok però come era l'unico modo ma cioè siamo sempre in quel come si dice a uno in testa di rodata ma all'altro niente che palle oh vabbè lo stanno pure restando fuori safe ah no ok un onesto 5% un onesto 5% dai che piano piano si sale marino la real è a portata di mano eh real non lo so già se il campione è buono eccoci qui eccoci qua ah l'ultimo oh sta prendendo così tanto oh mi sto prendendo bene oh sta qua dai tre e mezza house dice l'ultima poi mi vado mi diverte mi diverso bene 4 e mezza dai l'ultima mi riprovato che c'ho da qua tipo i 7 e 20 no sto scherzo che dettaglio vabbè ma questo è bello quando succede vuol dire che uno si diverte ci sta ci sta dire che gli piace gli piace il gioco sì ma pure la compagnia non solo il gioco perché comunque questo è uno dei classici giochi che se la compagnia non ti piace cioè te ne vai cioè dici che ne so hai giusto un game e te ne vai sì sì secondo me sì cioè perlomeno te inventi tutti i colori o c'ho i panni stesi o magari però l'unica brutta del no build così è che tutti sono arrattati tutti tutti i fottomastri tutti i fermilini bush però lo sai pure qual è il discorso che magari essendoci meno gente che gioca becchi più persone che traiardano mentre magari con le build se sei un rank tipo ne so diamante questi qua ci sono un sacco di diamanti in sacco di platini quindi ti mette prima quelli e poi ti mette gli altri quelli fa noi beccamo subito guarda tipo il team che ci ha ucciso sono due campioni e due a real e questo succedeva prima pure che giocassi con 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 il mister qua con mi ricordo che mi ricordo scusa ok con ciro ciro ormai il mister cioè li becchi uguali gli a real e li becchi uguali cioè magari meno però li becchi ma riguarda che gioco stai gioca fammi vedere che gioco stai gioca fammi vedere un po' tu metto brossar e invece no stai gioca aspetta fammi vedere bene che non mi sta a caricare qua eeeh io non te vedo ah che non sei vai non te vedo però vabbè dimmi a chi stai gioca broni fammi prima ma questo città ma vi ha trovato la partita voi no 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 ciao pietro ciao bello lanciami una sfida sul gioco che sto portando solo sniper o pistole pesanti e pistole pesanti se non trova pistola pesante che faccio ma aspetta ma tra lo sniper è considerato pure il dmr o è quello è un assalto domanda domanda per la corte ho messo abbiamo messo pronto sì però penso che dovremmo tornare in lobby perché con la scusa che è stata partita secondo me te la trovo lo stesso eh vediamo proviamo proviamo ciao smoky tornate nel lobby marinocchi vedi io smoky per non torna in lobby faccio sempre preparati così nessuno mi può dire sei tornato in lobby vedi 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 peterra vedi vedi non torno c'è proprio una ma gli avrei detto che una volta ci hanno ci hanno trovati che cosa no è vero non glielo ho detto che una volta ci avete trovati in rank capirai poveri noi poveri noi eh 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 che famo eri con con Nettuno e e Rai Colone vuoi essere? non lo so so che ci avete pushato in macchina che noi eravamo sotto e che avevamo il medaglione vai a c'era c'era Nettuno e aspetta Nettuno e Rai Colone Rai Colone Fanatic sì esatto sì c'è sa pure Pippo Gaming può essere? eh no no e aspetta c'è stava Joel può essere? non lo so vabbè qualcun'altro insomma è una bugia qualcun'altro se qualcun'altro sì con Nettuno penso in quattro so che aspetta avete buttato tipo due o tre bunker una certa ti eravamo presi dalla disperazione sai di no no perché allora a te ti ha tirato una cechinata cirru proprio e io ti avevo un fritto con l'assalto e poi abbiamo pushato capirai oh easy no no è che poi avevo fatto la tua life perché ho detto ma è davvero lui fammi vedere se è lui non ce l'ho l'anonimo non ce l'ho l'anonimo no no ma infatti infatti ma non lo so poi avete detto che eravamo campioni appunto ah allora aspetta avevamo rispettato anche ho detto ah questi già campioni eh beh io lo sai qual è il discorso io lo dico ormai lo dico ogni match hai visto come adesso vabbè assieme no 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 è giusto stesso tipo è allora è normale che non mi ti ricordo perché magari non ci conoscevamo altrimenti mi sarei ricordato sì te la mando io cirru perché c'ho la bloccata perché sennò ma arrivano ma non perché non voglio che mi arrivano ma a me ne arrivano troppe non capisco più se uno che ho conosco che non conosco poi vai ha capito ho mandato ma non mi accetta a macello valla c'è per me risca aggiunge io così ma pure chi segue nel senso li faccio mettere su discord su presentati mi chiamo così e io prendo aggiungo è più semplice una volta quando stavo a giocare mi ricordo che se con pizza con croato mister l'ho lasciata aperte tutta la partita ci stavo a capire oh ti giuro mi ricordo sono stato una sera stessa o il giorno dopo ho dovuto cancellare tutto e perché non mi ricordavo chi era che è ho detto mamma ho cancellato tutte le rieste case perché mi sono scordato ah lo sai sta tromba è quella che usa sempre ciccio quando vince mi hai fatta io quando vince una partita metà tromba questa qua qualcuno ha scritto nella tua live bello il 2,90 che ti ho fatto sai che ci ha ucciso qualcuno di loro no dove ha scritto è nella tua live ho i commenti edoardo bello il 2,90 che ti ho fatto non so se hai dato te o chi non lo so grande dove ha mi fa piacere edo ha purtroppo devi sapere che non sono molto bravo però mi diverto questo poi ma io col cicco non lo su sai quindi 2,90 anni potrò mai fa cioè nel senso se gli faccio tutta la fortuna tutta la fortuna accetti sta sfida ma io solo sono comprati andiamo a gran ghiacciaio rega che c'ho la sfida ma state buono andrea una volta dove ho giocavo ciccio ero stato invitato stavo al lavoro lascia perdere che sfortuna potevo giocarci una volta mi sarei tagliato mannaggia stavo portando i pizze consideravano arrivata la cosa che c'è potevo gioca marino non fai solo lo streamer come lavoro cioè no ma che c'è non riesco non riesco a fare solo questo no 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 ma io pensavo di sì ma non sei l'unico non sei l'unico molta gente pensa che io chissà quanto va non è facile per carità non dico che guadagni chissà cosa perché per guadagnare chissà cosa devi avere ma è facile ma è facile sembra facile ma non lo è ragazzi comunque ci sono tre team e siamo belli contest ma io posso prendere solo il cicco chi gli dica questo amma ma io non ho un'arma mi sa che sono morto senza il miss mi sa anch'io aiuto mamma mia hanno tramortito con le clinzer oh mio dio di fortuna e dai mi ha messo a terra ehi ma è difficile sta sfida fin l'ho trovato niente oh che bella schipura serat oh serat c'hai buonasera nel nome buonasera poi ci sarà prossimo ho fatto io eh beh io ragazzi sono io sarebbe stata evocale no smirato one shot questo peccato via la via la staghi le house va via con l'impulso a 7 bus orco addosso ma questa non vale questo non vale l'ultimo questo io mi dispiace dirti te l'avevo detto come se usava quando uno ma volevo prendere meno la scheda quando uno era piccolo e giocava a pallone mi raccomando non correre troppo ti spacchi ginocchia ti sbucci i ginocchi sono saltato dalla sedia ragazzo lo giuro comunque se devi prendere solo il cecchino dovendo non è andata via andata via la sfida io ci ho provato ho trovato ho sceso pure dove dicevi te ma poi con le nuove policy twitch non calcola neanche più la gente il look come spectra quanto ne so se non si attivi come esserci lo hanno fatto tipo evitare il bottaggio dei live ma quello che so io il look vale solo se c'hai un minimo di audio alzato ice se c'hai l'audio tutto abbassato ti considerai inattivo ma se uno ce l'ha alzato sta a studiare c'ha un minimo di audio un per cento vuol dire che ascolti a quel punto ci sta però in realtà alcuni mi hanno detto che non è vera questa cosa perché ci sono anche le persone che per un motivo oppure un altro non sentono no ma raga ma ti fai una stronzata raga non credete c'è queste cose qua raga vabbè ma ogni modo ice sai te posso dire il discorso della partner è ormai relativo nel senso che ho visto gente in un page che non ha la partner quindi semplicemente si tratta pure di un discorso di conoscenze nel senso che se tu io domani dovessi conoscere per qualsiasi voglia motivo un amministratore dei twitch che tratta i creator e quello mi prende in simpatia e dice oltre alla simpatia chi lavora bene eccetera ma può essere che pure io finisco non peggio una volta invece soltanto il partner bravissimo adesso chiunque ci può finire la cosa figa della partner è avere quel verificato che siccome in Italia l'apparenza è quella che conta purtroppo perché è così e magari qualche azienda qualche streamer in generale ti vede col verificato e dici mazza questo c'è il verificato allora conta qualcosa e ti prendono più seriamente ma non è manco non è manco come dici tu è di farlo chiaro no 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 ma io dico non vale per tutti non vale per tutti dico però capisci sai io ce l'ho ma non cambia non cambia nel senso e vabbè ci sta dimmi ho preso altre 40.000 v-box davvero a posto a posto abbiamo qualcuno che ci regala le prossime skinner regalo per fanno scherzo ma altre 40.000 v-box ho fatto sì me ne rimanevano dieci ma davvero ma 40.000 a numero o come se dice a roma tanto per buttato una cifra a caso no no 40.500 ma da ero 100 euro aster tu c'è la codice creatore aster eh no ma meno male ma purtroppo sono ancora piccolino meno male alla finché aster non c'è il codice creatore cirro mi raccomando le sgoschi nello shop se ti va dai poi poi si va bene bravo bravo se non c'è altri amici che supporti col codice creatore no ma quanta gente c'è questi posti del cazzo ma è molta io io impazzisco mamma che è nervoso mi piace subito l'arma qua c'è sul tetto qua mamma mia ci siamo troppati a residenza me ne sono reso conto solo adesso c'è pieno di gente e rega io sto da qua perché non lo so ho visto ho visto una cassa anzi più di una ah qua c'è la canzone ciccio gamer ok qua stanno i pupazzi qua no stanno i shieldini bug uno a terra arrivo arrivo guarda se mi facessi scavalcare la finestra niente mi ha distrutto sono in due qua dove sono morto ok sono in due proprio negli angolini fermi al momento entrambi col pompa che si sta muovendo mi ha detto mi ha fatto uno ma sono one shot trovo uno non ci credo uno shot uno shot uno shot è la tizia quella lì the league of legends è ma sarà un altro c'è uno con quello da nike sono due di sette c'è sta fa la benda niente peccata a terra uno però un altro qua destra è un altro cazzo stagno ragazzi altri due altri due sono camperati negli angolini sì e aster vattene via aster fidate i marinocchi sì sì vai via anche perché quello per terra quello per terra non l'hai confermato no in più vai via perché probabilmente arriva un altro team mi sa che sono scesi il bot quindi vattene perché arrivano quelli che scansionano anche i squad tutti negli angolini comunque mamma mia che fastidio mette lo scavolcamento automatico non di caso ma no in realtà come ce l'ho messo io che non mi ricordo com'è ice va benissimo così va molto molto bene e il discorso qual è che porca miseria ma manca sempre quel colpo in più per buttarli per terra ma forse erano in due quindi è arrivato l'altro che mi ha ah no ma è difficile oh mici ma fai mi stavo poco a chiedere no non adesso tipo a mente un po' di tempo fa ma mici ma do diamine che dici come è come è andato l'esame mici l'ho fatto che fa le stighe il mio dio questi game è un macello è un macello eh si oh mici sai ho preso la triste decisione di cancella sia hulk che the finals perché se no ci giocavo pure la sera mici e invece mi devo concentrare un pochino su fortnite su qualche altro gioco che voglio portare tipo overwatch per migliorare la sopra così tanti giochi mi metteva giocavo da due tre ore poi manco portavo live e i numeri bassissime no ho dovuto cancellare ho dovuto cancellare ma no perché se lo lasciavo la c'è giocavo capito come quando uno dice devo fare dieta c'hai barretta di cioccolata sotto al naso prima o poi la mani c'è niente da faremo poi è la e te mani tu benessere ma te marino ogni tanto ti regala qualcosa da epic col discorso del codice che c'è che è il codice che è anche a me mai nulla ma regalato è una filiazione non è una niente vbox niente affinazione non è una partnership i partner sono tipo jozzy croatomist queen george c'è altri a loro gli regalano le skin gli altri no poi se le cose dovessero cambiare perché si accorgono di me ve ne accorgerete perché farò tutte storie eccoli qua che così mi arrivedo oggi però per momento no purtroppo vai io ci provo è vero che adesso sono ancora due team qua mi sa merda merda si via il problema è che le schede sono tutte su eh lo so e il problema è che non c'è cure ma dentro sta casa non è che c'è sta cura se trovi un medico tutte le bande sarebbe bellissimo eh ma dubito una banana forse la banana buona buona questa è buona però riprendite quello che hai usato no? cioè quello che hai lasciato ah dice non la usi adesso ah no aspetta no ma dovrebbe proprio aspettare un attimo ragazzi skin di marino skin game ma sono ancora qua infatti devi temporeggiare hai un minuto per prendere le schede un po' di tutto anzi in 50 secondi anche perché se si accorgono dei dete vengono a push a tutti e 4 quindi aspetta proprio calma 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 ero fuori comunque esame tutto ok devo fare il secondo a fine maggio ah buono c'è un po' di tempo per respirare mi fa piacere mi fa piacere caro micci eccolo qua è il buon micci oggi ho fattoci un video su youtube anzi due anzi no il secondo esce ai 19 no quando è scelta non è già uscito no no devi c'è devi usare con lo scatto ma sono bugate anche le finestre a volte vedi che non si attacca anche a me prima ok hai mia scheda dove? ah eccola bravissimo ho visto delle bende può esserci? ho visto le bende dietro? eh non lo so io non devo io credo di averle viste vabbè ah sì 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 è vero c'erano sì vabbè avevo messo in tre viste però vabbè eh adesso dove andiamo? eh io non so dove sono andati loro come fu tu che lo vedi a destra a medaglione di del mondo lo vedi o eh non lo vedo ma l'hanno fatto allora vuol dire che è abbastanza lontano ok ok dovrebbe essere lontano qua c'è un po' di lutto un po' di roba ragazzi io sono sempre l'ultimo a essere restato di solito sono io quello l'ultimo invece oggi mi ha dato bene eh no di solito ecco io in tutte le robbie sono luce che noi ci abbiamo ci abbiamo la skin quella la pay to win i polli eh ah vero vero all to win eh capito sempre eh quindi eh ii ii skin di marino skin game guarda che esce prima la mia dei altri eh state state ice non sto scherzando si vocifera si vocifera si vocifera si vocifera di una emote per me attenzione davvero bello si vocifera si vocifera no l'emote delle sgoschi dovrebbe di occhio no no è vero ragazzi sto trollà mi piace trollà ma manco so partner figurate se pensa se succede se sentono tutti male grido oh moriamo da zona altro che cazzo beh ma basta restarci a vicenda adesso come adesso io sto andando io nel fiume in acqua ma comunque non senza niente io sto andando a benzinaio sperando di trovare qualche barile qualcosa si stanno sparando full a sinistra ho una macchina sopra il ponte e viene verso di voi ve lo dico eh ma c'è sta uno che sta arrivando in pulso oh oh regala c'è qualcuno di te ma è andata la casa ragazzi cirrose faccia le cirrus siamo a bordo zona noia si arrivo si si riesce ad essere uno le riuscite restare a mio punto di vista ciro io conviene prendere schede più che le salvere a best perché mi hanno cecchinato hanno cecchinato dietro da dietro comunque la gente non sa ruotare ragazze che cirrus e andrà via cirrus ma col cavolo che io lo guardo quello non ho munizioni di niente problema che marino è veramente indietro no io sono dietrissi però se trovi qualche cura da loro ma è qua ma sul serio di guarda qui ma dai prendi la macchina mamma mia vabbè la scatata dove sta andando quello vorrei capire un medikit fatta se no sono problemi ho potuto darmi un big ho spreso quella è una cosa dorata marino purtroppo non riuscirò come me riposo un attimo io ho bisogno di schiaffi su fortinetto c'ho bisogno un attimo di derivi a me adesso adesso premio ancora perché dove direi una cassa davanti a te che potrebbe darti il medikit me lo sento te lo senti ciao gabri si esce il medico sai che fa l'ho fatto il fallo intanto si si è già una fra moda e camminare la scopera lottina da giocare dammi due numeri leo vado subito a giocare 19 11 giocateli ragazzi che sta volando del nome raccomando salire regali e non voglio per dei punti ma cosa o quanto so allora dove vado a restarvi dove vado vado vediamo la safe distesa un po troppo rischioso non mi fai più vedere la mappa fai già adottato gli e fuori safe hai delle bende anche mamma piau ma trova una macchina trova una macchina se trovi una macchina già la fai secondo me perché tanto lì chi ma chi c'è può trovarla un pazzo metti giù la desert prendi quei due bunker canola oddio c'è proprio devo tenermi niente io da tirare un edge shot vabbè no il mio duo con il mitico marinocchi a rudy sto fatte tutto per un batte master sto fatte tutto no è vero scherzo ah c'è rudy in live da te si si ma scritto ma scritto il mio duo col mitico marinocchi e poi è scritto master tra parentesi sì perché non specificarlo e non è prendere il marinocchi poteva essere chiunque poteva essere chiunque il suo duo poteva essere teo poteva essere house sì sì ma perché giochiamo giochiamo insieme è di verona come me e lui a rudy grande grande e marino tu di dove sei io so di roma non si sente un pochino io non lo sento ma l'avrei dato non l'avrei dato di roma io dai romano no frate lo giuro ogni tanto non ce la faccio per il tempo non ce la fai per il tempo retro front a me rianima lì qua ma no ma rifai lo stesso gioco riano no 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 devi andare iniziare i medici per forza per forza per forza devo andare avanti lo potevo parlare con il botte che magari mi dava un altro ma regalo e se more è colpa mia o di l'ho portato ad andermi a prendere un abbraccione alla prossima leva 2 davvero o mai marino chi è rovinato tutto marinocchi a rinocchi marinocchi forza macchina vai su vai dai costa macchina dai costa ma vada vada per l'amor di dio l'altro anche vi restassi vi resto con una pistola e io un fucile a pompa una mitraglietta lascia ti lasciate andare fatti il medici si si adesso adesso house dobbiamo correre full in se ful fra alta che correre in seguito ful fra messa di sé ful fra fu il frarino come di da supporto morale tattica ma si ma io sto qua fammi tu chiacchi marino tucci tu ci colli tutti i mappi che abbiamo avrei amala e si è rimasto magari un'altra no passi passi ora ci posso credere ma cosa fa qua questo secondo me era qualcuno da lei vede prima perché mi sembra che tarzan ha già mi ha affrontato un certo tarzan prima un po' arrivato di ci che ha più dietro di me era questo ma raga è stato un piacere anche anche per me ha perso quattro per cento indovina come sto un per cento i litri raga no perfetto non testare in bolla sempre portante sta ancora essere ancora in gara essere ancora grazie mille piacere ci sentiamo tanto sì sì tanto tanto vado pure io che insomma dopo cinque ore è arrivato a tutti ragazzi ragazzi grazie per i partitozze ciao 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 ragazzi ciao ragazzo io spero che la live sia stata del vostro gradimento spero veramente sia stato del vostro gradimento e però facciamo il ride a qualcuno facciamo il ride a qualcuno dai per forza per forza per forza su q grazie mille per l'abbonamento e il follo insomma è di che si purtroppo è andata così è andata così ma è che vedevo di e che dici dei games comunque che dici non lo so non saprei non saprei insomma anche che facciamo radiamo a croato mister dai che scelgo giocato mi senza sa quando andiamo da curato mister dai ragazzoni spero che la vi sia stato il vostro gradimento io non lo so la prossima live quando gabi insomma cose se dopo dai 2 zidino ai raid o zidino cambio in corsa zidino gli possiamo da ancora di più una mano rispetto a cronatomist che già insomma sta bella spedita erai dallo zidino regà e se vediamo in live seguite i social per sapere quando let's go ski let's go sì così ciao ragazzi ciao belli let's go ciao ciao ciao